ti servono crediti non sai dove acquistarli toni tubo deve aiutarti fifacoin.com con il codice toni riceverai anche un piccolo sconto il link lo trovi in descrizione buonasera ragazzi buonasera ma buonasera come state amici di ipsi nonna vostro fori tube allora un attimo solo che devo cambiare le categorie della live mannaggia lo vino 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 giochi ok andiamo su twitch viaggiare informati andiamo a vedere un attimo su twix viaggiare informati che pure qua devo cambiare la la destinazione della live streaming ecco infatti cade che ancora slot con me come cosa invece mettiamo fifa ok allora come si va ragazzoni belli benvenuti buonasera a tutti quelli che vengono da youtube buonasera a tutti quelli che vengono da twitch oggi super live perché ragazzi 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 oggi veramente andremo a fare qualcosa di mai visto nel mondo di fifa ultimate team che cosa non ve lo spiego allora torni di seguo da chi sei poco bacio bello toni che ne pensi di sapo bulli chi è con il caffettino bravo gennaro di palma andiamo con il nostro tutto vai facciamo il nostro rito ci facciamo un bel caffè e poi cominciamo la live via allora oggi andiamo ad aprire i premi di rivals poi vorrei in base a quello che mi esce vedere se riusciamo a fare la sfida della icon perché purtroppo non so se ce la faccio quindi devo vedere poi mi sono mi sono preparato la squadra argento per fare gli ulteriori pic domani dato che c'è il baffè il team auto week beh ci terrei un poco a trovarlo quindi alla ricerca di imbappé mi sono fatto i pic ecco eccomi qua allora allora visto quel robinson dicci americano e cicci americano ci stanno ho visto questi qua basi squadra onestamente li ho visti questi basi squadra mo le andiamo un attimo a vedere meglio allora diretta abbiamo come basi squadra questo tizio qua muktar della mls tedesco certo 4 stelle skill e 5 di piede debole tanta roba c'è delle belle stats ripulibri 99 e agilità 99 sono proprio devastanti non ha stats difensivi ma questo qua secondo me come cc è tanta tanta roba è veramente tanta tanta roba poi se ti faccio la donazione mentre la canzoncina bombero non so se ce l'ho sul computer errore ti ringrazio non so se ce l'ho sul computer mi arriva da twitch in cine giornale di come si vincere quelle off no devo cambiare la base di devo cambiare la base del della notifica quindi dicevamo muktar poi abbiamo la sfida stelle d'argento pure si può fare poi c'è questo pic 84 più quanto costa a 82 con 2 di mob duic pure si potrebbe fare e poi ci sono gli incontri principali che pure sono simpatici l'icona media scelta non lo so perché effettivamente costa proprio tanto ma questa qua c'è 287 285 per una mid ma ti rendi conto qualche che tarda sci quindi non lo so non lo so sono un po un po indeciso su questa qua se no la mettevo come titolo raga questa 84 quindi la facciamo gli incontri principali li facciamo gli altri giocatori quelli non sono da sbc io poi c'era pure questo musunda che volevo fare perché mi sto facendo la squadra argento la volete vedere ma vi faccio vedere mi sto facendo la squadretta argento che è molto molto simpatica per ora c'ho questa squadra qua c'ho questo tizio e langa che è molto molto forte poi pogba ovviamente poi li vedete messi così poi in game cambiano per l'intesa pogba 74 welbeck molto molto forte attaccante 74 kevin de bruin in questa versione argento poi c'ho stiff argento di tedesco l'ho usato per metterci marcolino royce e poi purtroppo c'ho il terzino destro tedesco mi manca tengo questo qua messo così giusto tanto che lo tenevo e questo difensore centrale che pure una carta speciale c'ha 95 di velocità sto difensore centrale una cosa assurda e a porta ci ho messo il portiere tedesco in modo di questo difensore centrale qua che vorrei cambiare al terzino sinistro molto molto simpatico questo rì ma a parte che la velocità del suo difensore che è spaventosa veramente spaventosa allora ciao capitano non posso aprire pic gabriele sono su xbox non su play ciao toni materiali messaggi da twitch sì ragazzi c'ho tutte e due le live aperte toni se be se trovi imbappeti fai capelli blu ma perché toni che ne pensi degli esseri umani che prende il red di cittadinanza e che ne penso che se ne hanno bisogno buon per loro se lo fregano allora sono delle merde dipende dalla situazione a poi tengo fatto gioie linton questo tale smagno e mal qui e jibs white e pedrigno tutto sommato ce l'ho la squadrettina argento capi che dico ce l'ho la squadrettina argento e mo volevo farmi dagli obiettivi questo difensore centrale qua da mettere ecco questo tizio qua mi mancano solamente cross da fare che pure è inglese questo qua però non ho capito se è di premio o no forse questo qua di 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 liga due perché io so stemma non lo riconosco sinceramente però visti che l'inglese ho detto ma può essere che che funziona allora non ci perdiamo in chiacchiere andiamo ragazzi ad aprirci i premi di division rivals mi raccomando lasciate un bel pollicione in su su youtube datemi supporto poi su twitch mi raccomando se vi va potete abbonarvi al canale con amazon prime che intanto è gratis allora noi andiamo per quanti più pacchetti possibili anche se in realtà i crediti mi farebbero comodo cioè tipo fare così prendere questi pacchi 40k non sarebbe per niente male se noi pacchi scambiabili così oddio 40k su 40k vero giocatore miseria prendiamoci aspettate prendiamoci questi qua ci prendiamo sei pacchetti più clic dai prendiamo sei pacchetti più il pic ragazzi nel partito pubblicità non so se mi è risposto soldato sto stimando su entrambe le piattaforme già tre giorni posso posso stimare sia su youtube che su twitch perché sono affiliato solo su twitch quindi lo posso fare e sto stimando su entrambe le piattaforme in questo momento mi stai vedendo su twitch ma sono anche su youtube allora prendo sempre l'opzione 2 io e mi sa che pure io poi pure io faccio di solito sempre così però ma avevo bisogno di crediti quindi forse in 40k avrebbero fatto più comodo però vabbè la prendiamoci più pacchetti tante volte ci escono un botto di walk out e andiamo a farci live on gratis abbiamo un pic 2 pacchetti orari 2 giocatori rari e 2 giocatori rari maxi il più importante il pic ragazzi perché abbiamo una scelta di 5 una scelta di 5 tutti i giocatori provenienti dal team of the week 21 a salire quindi fino al 23 quindi tre team of the week possono uscire vabbè fa parte già di questo pic quindi speriamo che esca un bappi 93 sarebbe proprio proprio il massimo il massimo il massimo lasciate un bel pollice in su che ce lo andiamo ad aprire dai 321 o aspetta me lo vorrei registrare sicuro registro il pic vamos bappe prendiamo ito che 86 può essere utile per fare le sfide però una merda proprio è molta merda tu non va bene andiamo con i pacchi ma magari ci portano più fortuna i pacchetti chi lo sa chi lo sa lo scopriremo solo aprendo due giocatori orari questo tutti non scambiabili cominciamo dal pacchetto aggiornamento oro mi posso chiedere consiglio informazione del fanta no non faccio fanta calcio faccio fifa buonasera castri ciao pietro io il pac li tengo domani che la promo dei football day davvero una bella cosa fai bene fai bene non è male anche se ci sono parecchi motto che possono uscire parecchi giocatori buoni ci stanno guarda il bici della mls il cc dopo i pacchi sono clamorosi a ottimo non a sapersi mani ok c'è la doppione non scambiabile vai pacchetto giocatori rari 12 giocatori tutti oro tutti rari come vogliamo il walk out e vogliamo il walk out ciao peppe si sono sia su youtube che su twitch buonasera matteo buonasera simone dai lasciate un bel pollicione su ragazzi che mi aiutano tantissimo su youtube purtroppo senza like su youtube non sa va tutti invece no cammina da solo e già siamo in 70 spettatori su pc grandi andiamo con giocatori rari via un bel if walk out argentino portiere del nizza benitez 85 vediamo sotto cosa c'è un bel walk out no è ok questo qua comunque sono bei crediti una ventina di cappa li costa gli 83 che mi servono molto buono infatti mo mi serviranno tantissimo gli 83 gli 80 gli 84 per farmi le sfide quelle la che tengo dentro al negozio quindi quelle la mi servono apriamoci noi da 100k dai siamo arrivati a 100 like 98 mi piace arriviamo a 100 like apriamo il 100k dai togli dove sei io sono di nola provincia di napoli abito nella provincia interna di napoli tra l'altro ragazzi oggi ho registrato il primo episodio del tg tubo nuovo format che vedrete su toni tubo dove parleremo delle notizie del web e delle news quindi mi raccomando voglio massimo supporto domani che esce sto video anche se in realtà sto cercando un grafico un grafico bravo che mi servono delle miniature per questo qua se di acerra no pietro sono di nola però acerra c'è un sacco di amici ho fatto pure un video in collaborazione con l'acetana se lo cerchi scrivi toni tubo acerrana ci stanno due video che ho fatto in collaborazione con la scuola calcio di acerra proprio io sono di bombay dove si trova legge a uno dei miei sponsor salutiamo la legge sp allora hai visto la nuova promo simone andiamo a vedere li andiamo ad analizzare insieme intanto andiamo a cercare questo pacchetto cento like che abbiamo superati strasuperati che bomber che bomber di razza che abbiamo attenzione sono lavagna chi è che il primo si la c'era ai capi traverze come razz where are you from a berz cioè noi visto che siamo la terza guerra mondiale e putin vuole attaccare anche noi come l'ucraina rincella a putin che beh o spez alla putin con me ha da fare una cosa ma da tutte bombe nucleare si può vincere contra me perché si vede in italia se ne torna in russia carico di meraviglie e non è una minaccia è una promessa ma il professore di vesuviano la mano avanti il serpente alle spalle putin ricordatelo o putin è un guappo di cartone il signor putin è un guappo di cartone c'è lo che bene noi c'è lo che bene allora con noi andiamo a fare una guerra nucleare ma vinci a mano cioè che mi trammana bosch non c'è niente da fare ma no ma tu dirai perché teniamo l'esercito forte avevamo un esercito ma dove andiamo con l'esercito dove andiamo a con me già scende tutta la gente mie zavi apriamo le galere facciamo riuscire combattiamo quindi putin bene non si non avere paura può vincere solo con la bomba nucleare e se mai dovessi vedere che ha lanciato la bomba nucleare non aver paura ricordati questo proverbio one death tutto e mezza festa quindi non ti preoccupare andiamo avanti togli ma domani farà più vendere i biglietti e poi un walk out però ti prego è alessandro sandro dai se venissi a nora si immaterializza nel centro dell'universo anno anno la teniamo un paio di personaggi da da farti conoscere al sol putin si vede a nora no ma non potrebbe mai attaccare l'europa non scherziamo ma va bene avere paura e giustamente quello ha fatto gravissimo però non potrebbe mai attaccare l'europa cioè non ce l'ha proprio la russia questa forza di poter attaccare i paesi della nato quindi su questo stiamo tranquilli infatti ha detto putini che l'italia non si deve mettere in mezzo se noi niente da tutti comunque siamo gravi io spezza putini santa fecazzi suori c'era di toni tubo vagliela riferite raffaele raffaele vaglielo a dire dici toni tubo ti ha dissato il live vai vai sulla pagina ufficiale del creme dentro il lino intanto trubiana twitch tv sta facendo un ride con 5 denti grazie trubiana twitch tv per il ride un bacione grande grande dedico questo pacchetto a trubiana twitch vai ok grazie ok prego olè portogallo att manchester united ronaldo si è bloccata la cam che bello cominciamo proprio che cazzo stasera stacchiamo l'abbrio cacca stasera se va così quindi ho cambiato ho messo la webcam che meglio alla vino la petto chi è rudiger zapata vabbè però un sacco di 83 mi piacciono l'importante è che escono un sacco di 83 che ci servono per fare la cosa poi quando avrai 600k il denaro colpi di mercato allenato ok toni chiamiamo te ok se putin arriva in italia modelli voglio non vi preoccupare ci pensa zio toni a proteggere l'italia ci penso io che berlusconi si è fatto vecchio purtroppo non ci può pensare zio silvio allora ci pensa zio toni andiamo avanti preferiti allora facciamo prima gli incontri principali così ci prendiamo i nuovi pack e abbiamo altri giocatori allora magister city magister united dello stesso l'ambiente ora massimo 4 ma non ti preoccupare domani vieni con toni tu patti fare a putin non lo devi pensare allora li metto giù così poi vediamo del city chi tengo tengo zienco ok allora potrei fare potrei fare terzino qua cdc qua un bello difensore centrale di premier india non c'è che l'unione ucraina e scozi secca mettiamo l'inglese qua vediamo un portiere se ce l'ho non ce l'ho va bene e allora voi tre restate qua e mi dovete fare base d'intesa poi faccio 1 2 3 poi faccio 1 2 3 se non lo potrei fare potrei fare lo metto questo 40 85 di intesa 1 2 3 portiere andiamo a prendere che ne so dalla ligand e magari ci stanno i francesi no ecco mandata poi difensore centrale nu french nu french e marsango della colonna però allora andiamo francia va andiamo a prendere serie a vediamo un po se in serie a ce li abbiamo gli italiani italiani di mare di monte caldara 76 e va boia madonna non c'è giocatori mamma mia come la faccio sta sfida andiamo la santander volevo mettere gli attaccanti santander vediamo un po se la giovedì bundesliga buono santander difensore centrale 80 vai bene terzino destro 75 fa niente anzi se tengono esterno destra e quindi a me nemmeno si va benissimo ma qua sopra ci faccio tutto test grande corti cermani en tu 82 l'acqua da due valutazioni poi poi è uno è un 83 se no campo a cindisi e stanno 79 esterno sinistro guarda ho messo proprio quelli più alti per evitare e manco ce lo faccio 80, 81, ok allora d'intesa ci sto giusto i giornatori della Bundes non li posso proprio toccare dovrei solamente mettere un terzino qua fammi vedere esterno destro chi te ne ho allora se metto questo ci sto a 81 se metto questo ci sto a 81 se metto questo ci sto a 81 però non ci sono un'intesa aspetta così non cambia un cazzo cambia qualche cosa non cambia un cazzo ma proprio identica rimane la cosa che palle fra che palle poi se tengono esterno sinistro magari di premier 80 che vado bene ma tu guardano poco ma bam bam non cambia un cazzo non cambia un cazzo Allora, ragioniamo, 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 ragioniamo. Allora, l'unica soluzione è prendere un tedesco attaccante, è l'unica soluzione, un attaccante tedesco di Bundes, non ce ne ho, Bundesliga, se no la devo comprare, eh no, cioè tipo però, voglio parlare di intesa, non ce la farei lo stesso, nemmeno così. Il problema è l'intesa, ragazzi, se no devo mettere un terzino destro, devo comprare un terzino destro di Santander 80, e ho fatto, è l'unica soluzione. Eh, devo fare un terzino destro di Santander, almeno sull'80, vediamo un po', solo dest, 78, 78, diciamo così, paese, Spagna, un po', non ce ne stanno, 5.000, non ce ne stanno, 7.000, madonna salda, questo veramente costa così tanto. Cioè, è l'unico che... Cioè, per farmi incontro principale, devo spendere 6.800 crediti per rendere capa, perché se lo trovo, lo scarto, capito? Cioè, se lo trovo, uno davanti come quello, lo scarto, non ti arrabbiare, non ti arrabbiare, non ti arrabbiare. Giornatori di Leverkusen, non bai il Monaco, minimo 2, campionati minimo 4, perché sennò mi chiamo collare, club minimo 5, notizia 79. Allora, Bundesliga, Leverkusen, Nobel, Monaco, U e 2, eh sì, bella prova, e via. Uno qua, e uno qua. Allora, facciamo in questo modo. Portiere, andiamo in Premier, c'è l'O di Premier? Vediamo se c'ho due difensori centrali che possano fare un po' di intesa, sì, questi due fanno doppia, ed è proprio belli. Ok, cc, non ti piace, aspetta, vediamo se ce l'ho di un'altra nazione, magari portoghese, va bene. Poi, terzino sinistro, otterrei, andiamo per un Bundes, anche se questo è cileno. Facciamo sempre un Bundes, ok. Poi, campionati minimo 4, non li mettiamo. Allora, andiamo sempre in Santander, 75, acc, cc, vediamo un po', ce l'ho un cdc, perfetto, e una d, una d a dama. Vabbè, ci posso stare, intesa, ci siamo, club, ci siamo, ok, quindi metti un attaccante, randomico, dai, chi vengo? Tipo lui? Ok. Tipi, guain, buongiorno, 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 attenzione, buongiorno, attenzione, allora, Allora, vuoi, Tony, ma perché non mi fa trovare le partite in divisione elite? Non lo so, quindi, prova a spegnere e di accendere la console. Fai anche oro comuni, ci sta caspa, l'ottanta che costava meno, Tony. Ah, e vabbè, sono andato su oro, la panina. Allora, calciatori Roma o Bergamo, minimo 1 della serie A, minimo 2, minimo 6 regioni. Ah, posso fare un bello aggiornamento oro serie A, vaffangure. Ah, quando è così, mi piace. Tu, 15 anni, ma già sei dono. Minchia, questo termina mi sembra forte. Perché ti dico? Ditto te, tanto che in te sa scelta. Icone, a te boh. Centro-landisti, Miguel Veloso, vecino. Vecino, vecino, andiamo vicino. Bello. E anche questo è fatto. La nuova parolaccia è figlio di Putin. Allora, amore, resta squadrica. Giocatori A, league, minimo 1. Giocatori, paesi di generale, giocatori dello stesso club, massimo 4, vabbè, chi se ne frega. Valutazione 75 in desa settantina. Allora, devo trovare su una minata A, league, andiamo a vedere dov'è. A, league australia, sarà questo qua. Ok. Allora, io prendo un bel da D, vedete, se l'ho indovinato. Bello. Paesi-regioni, minimo 4, abu. Sai che faccio? Leva questo league. Fa un aggiornamento premio e crescente. Non ci ho pensato, abu. Ehm, no. Reggato. Ok. Cioè, chi se ne frega. Chi se ne frega. Ma buttaci pure l'accento, ma che te ne frega. Che toglie. Addio, ho messo. A, t, va bene. A, s. Ok. Fatto. Ok, quindi fatti pure gli incontri principali. Andiamoci ad aprire questi bei pacchetti. Dai, che poi lo voglio fare muso on the wall. Andiamo a vedere quei due giornatori nuovi da dove sono usciti negli obiettivi. Saranno usciti, eh. Questi qua mi traguardi, probabilmente, perché non ce li ho visti traguardi. Infatti qua. Attenzione. Shaqiri, base e squadra. Segniamo i giocatori della MLS in sette partite differenti perché vuole putt capolavoro manageriale schirando almeno sette giocatori MLS. Do di trovare. Che due col due in queste sfide. Robinson, scambiai con, va bene, va bene, va bene, va bene, sono uscite queste due giocatori qua, cioè praticamente Shaqiri, Robinson, va bene, ordine per novità, Shaqiri, Robinson, e poi scambiai con, ordine per novità, è uscita dalla sua netta sfida, argento, ok. Non è che c'è tutta sta roba, eh, ma sinceramente, sinceramente. Dai ragazzi, lasciate un bel pollicione in su, siamo in 220 su YouTube e in 3.800 su Twitch. Ragazzi, ma adversa capo. 3.800 su Twitch. 3.000? Ma come ci siamo arrivati a 3.800 su Twitch? Ciao Tony, ti ho stato Zano. Grande Zano, un bacione, grazie mille, non me l'aspettavo. Un bacione per Zano, anzi, gli dedico pure questo pacchetto, grazie per l'host. Grazie a Matteo per i cheers, grazie mille Matteo. Un abbraccio. Allora, Tony, ma il paccaico non lo fai? Luca, non lo so, perché a parte che il pacco non c'è, ma c'è solo il pick icon. E il pick icon non so quanto ne vale la pena, capisci? Quindi sono un po' indeciso, sincera dentro la mente, sincera dentro la mente. Sono un po' indeciso. Allora, abbraccio, secondo te come esterno meglio? Clivert Moment, 84-10, nembrero, un breger, nembrero, nembrero, è bene. Uggio, 3, reverse. Ciao Tony, ciao Claudio. Gaia, Pepe, Bertolacci. Esiste ancora Bertolacci, giorno ancora a calcio. Ma che mitico Bertolacci, un saluto a Bertolacci. Ciao Tony Tonno, no, Tony Tubero. Allora, andiamo con lo Zingo Premium, vai! Vai, vai! Vi ricordo ragazzi che se avete Amazon Prime Video potete sfruttare l'abbonamento di Amazon Prime Video per abbonarvi al canale Twitch di Tony Tubbo in maniera gratuita e entrare nel gruppo abbonati dove ogni settimana vi vengono regalati un milione di euro in gettoni d'oro! Non è vero. Tony, ma prima di andare sul canale Piola, io sono ovunque, sono onni dentro il presente. Io sono onnipresente. Onnipresente Tony Tubbo. Sempre presente ovunque. Ciao Sette Blu, ciao Bello. Difensore centrale Piché. 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 Tony Moish Putin. No, mi dissocio. Andiamo avanti. Pacchetto Mega. Il Mega Pack. Vai! Io tutto a razzo li sto prendendo sti pack. Eeeh, la scoteca questo qua. Argentina, AD, Parigi Santa la Germania, Lionel, non è lui. Ma è Ocampos, amicino. Ma magari era un Messi. Ammagari, ammagari era Lionel. Però mille crediti ce li ha fatti, dai. Non posso lamentarmi. Mille crediti, mille coins li abbiamo recuperati. Allora. Allora. Ambedi come balla Nando. È proprio la fine del mondo. Ambedi come balla Be. Chi l'ha capito quello che voglio dire? Non l'avete capito. Allora, stavo pensando una cosa. Siccome io questa settimana vorrei giocare la Weekend League con la squadra Ergient, come potete leggere dal nome che l'ho dedicato a tutti gli abitanti di Aversa, l'ho chiamata Ergient, stavo pensando, stavo pensando, per migliorare questa squadra, se faccio quel Musunda, poi dopo al posto di chi lo mette, cioè come lo mette squadra, sto pensando perché effettivamente l'ho visto giocare contro il Launch Argento ed è proprio, proprio forte, sto Charlie Musunda. Pure questo Renier non è male. Questi di Cane non mi interessano. Stavo pensando di fare questi... Allora, questo qua lo voglio fare. Il Pick GS Argento lo voglio fare perché potrebbe uscire qualcosa di interessante. Quindi facciamoci un attimo il Pick Argento. Però, raga, lo faccio solo se lasciate like, se no me ne va, me ne va, me ne vado, raga. Me ne va, non me ne fate andare via, vi prego, voglio restare. Non me ne fate andare via, vi prego, vi prego, vi prego, vi prego. Non me lo fatemi restare, fatemi restare. No, vai via. 1, 2 e 3, mi servono 2, 82. Allora, Tony, fai l'84 o più. Lo faccio, ma solo se vi iscrivete al canale. Che minaccia, minacciosa. Tony, non devi fare le minacce ai tuoi iscritti. Non li devi volere bene, i tuoi iscritti. Va bene. E in esa noce bailando ricordo conosco del Piero. Pappalora, po. Sì, però, raga, un piacere. Lo voglio chiedere ai... Mazzu, siamo arrivati a 9.000 spettatori su Twitch. Ma è un bug. Ma... Ma è un bug! Vabbè. Dicevo, lo voglio dire a tutti gli spettatori che sono qua, ragazzi. Mi raccomando, entusiasmo, sostenete Tony Tubbo. Perché ricordate che un tubo è per sempre. Non so se mi ispiro. Allora, stelle d'argento. Questa è una bella pick. Abbiamo 4 giocatori stelle di argento che possono uscire. sono tutte delle stelle, tutte argento. Andiamole a vedere. Si è capito che era stelle d'argento? Attenzione! Po, 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 po. Allora. In esa noce bailando ricordo mi dico, te chiedo. Questo Dennis Lazzarin mi lascia un poco per dentro il plesso. Mi lascia perplesso. Perché io effettivamente ce l'ho già all'esterno. Devo quello là del Manchester United, di fatto. Il difensore centrale tedesco già ce l'ho. però effettivamente effettivamente pensandoci potrei mettere due difensori centrali tedeschi. Però qua dopo non ce l'ho intesa. Come la faccio? L'intesa? L'esplessa guarda che però quella non fa intesa. Tony, cosa ne pensi delle giovincelle di vent'anni che fanno soldi su Holyfans? Ma che devo pensare? Se tenessi vent'anni e fossi femmina io amo così facendo purì. Allora, sei un pollo se non prendi Dennis e se prendo Scott and Beck cosa sono? Un gallo invece di un pollo? E se prendessi Ergota cosa sono? Un maiale invece di un pollo? E se prendessi la Yun cosa sono? Un povero gabbiano che ha perduto la compagna Non te ne capite te capisca io perché No, allora io sto pensando per l'utilità questo Dennis io non lo uso però 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 capi? Cioè invece con questo qua io lo posso mettere in coppia difensiva anche se in realtà c'ho il terzino sinistro che sto pensando a come farlo puoi prendere in tesa c'è sta metà Welbeck Non c'è un modo per annullare la scelta Non c'è un modo per annullare la scelta Sì, aspetta No, chiudi e riapro Aspetta Eh no C'è ragionato Pecoso Ma scusatemi Perdonatemi Attenzione Ci devo ragionare Io ho una certa età Non ci arrivano Non ci arrivano i ragionamenti da una parte della cervella all'altra in maniera rapida Capi? Ci vuole il tempo Ma allora lei c'è la ragione Dici No, non la leggo Marco Wee Ciao presidente Che mi dice Dici easy che stai a pensare E lo so Infatti Quello voglio vedere Sei un ca... No Eh no Allora DC lo potrei mettere in squadra L'esterno sinistro No Perché c'è quello del Manchester United Che mi ci trovo da Dio Quindi Cioè Se devo scegliere Scelgo DC Lo so Che è un povero Gabbiano Che ha perduto la compagna Ma Vai DC Non pensiamo a nessuno Scott & Berger Vai Scott & Berger Scrut & Berger Spritz & Berger Tisht Berger Berger E basta Allora Germania Oh Oh Ah è 72 Pardon Ehi 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 Che c'è Joyelle Oh Mannamele Emanuele Giro Per secondigliano Per secondigliano Io compro un Audi Nero opaco E così Invece di giocarmi Welbeck a 8 Mi gioca KTB a 8 Ehi I già fa Però così Già Eh Cioè Invece di tenere Il difensore special 71 Di velocità Tenga un attimo Un difensore centrale Scrott & Berger Che È tutta un'altra Poesia Eh Ti piace fare Baubau Miciu Miciu Baubau Miciu Miciu Scrott & Berger Ha bisogno di ombra E io gli do pure ombra Guarda che Quanto l'ho voluto bene A sto ragazzo Ma Neanche Neanche la famiglia Lo vuole bene Come lo voglio bene Io a sto ragazzo Cioè Penso che questa squadra Ergent Secondo me Farà la sua sporca figura Perché guarda Tengo a questo qua Anthony Honda E' un mostro E' veramente un mostro Cioè gioca benissimo Poi Tenga Dei poveri Marcolino Royce Non ci posso proprio Non ci posso fare a meno Questo qua E' buono E' forte KDB E' gesù bambino Werbeck pure E' tanta roba Questo terzino E' tanta roba Però la difensore centrale Effettivamente Faceva ragare Per ora L'unico che mi fa cagare E' questo però A inizio game Lo sostituisco Col terzino destro Più forte del pianeta terra Dopo Mario Lui Ovvero Malqui Che non è male Malqui 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 Malì Cioè Non è male Perché se no L'alternativa sarebbe Fare lui qui Mentre Marcolino Royce Sta a giocare a 7 Qui E qui Mettere quel Mosunda Però Non devo dirsi Gioco Tutti attaccanti Non muocare No perché Sto pensando Vorrei 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 fare Quell'altro Giocatore Ma vi faccio Vedere quale Però non so Come metterlo In squadra Cioè vorrei fare Questo giocatore Del Chelsea Come si chiama Musunda Cioè Musunda Hai capito Musunda Terzino Trenta di difesa Favu terzina Trenta di difesa Mi penso Però Lettura difensiva A 30 Intercettazioni 26 Penso proprio Che Che non Che non Non lo può fare Cioè In teoria Questo fa pure Doppia con KDB Capito Vado pure bene Che fa la doppia Con Kevin De Bruyne Però Ci devo rinunciare Marco Lino Royce E poi mio Marco Lino Royce È Gesù Bambino Cioè Capito Come devo fare Posso mai rinunciare A Marco Lino Royce Perché Marco Lino Royce Volendo Potrei mettere L'esterno destro Qua E lo faccio Giocare a 7 Non dovrebbe essere Un grande problema Metto Quel Musunda Qua KDB Qua Questo lo metto Sotto Che tra i due Tedeschi Comunque fa Fa 10 In intesa Però Il problema Poi è che Mi ritrovo Una squadra Con Attaccante Centrocambista Centrocambista Esterno 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 E chi mette A futersi Ne ha nessuno A futersi Ciò non vado bene Non mi serve un terzino Che palle Mi serve un terzino Io non sto usando Sto coso brutto Tedesco Non posso mai fare La weekend league Con stu coso Tedesco Ciao Salvatore Cabretto Grazie mille Ma tu perché Dove fare la weekend league Con gli argentoni Io questa weekend league La giocherò Con gli argento Ragazzi La giocherò Con gli argento Per fare Il foot Champions plus Vinci quattro partite Foot Champions Una rosa composta Da soli giocatori Argento Paghina Inclusa Per ottenere Un giocatore a scelta Tra tre foot champions Provenendo al team Moduic 23 Io devo arrivare A otto vittorie Per me sarà questa La sfida di domani Con la weekend league Ragazzi Sarà questa qua La sfida di domani Deve essere così Sì no Lo si può fare Luca Perché sono affiliato Su Twitch Non sono più partner Prima ero partner Non lo potevo fare E Quindi Per me sarà questa La grande sfida Di domani Ragazzi Però per prepararmi Al meglio Voglio una squadra Di argento Buggati almeno Capi Allora Sorenier Per esempio Andrebbe bene Da mettere Sotto A Marcolino Royce Perché Perché Mo' Vi faccio capire Un'altra cosa Potrei fare Quello là E metterlo sotto Marcolino Royce Perché Io quando gioco Con questa squadra Tra l'altro Buonasera 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 Quanta gente Che viene Buonasera Ok Siamo venuti Consigliati Ottimo Dicevo Quindi Volendo Potrei fare Quell'altro Giocatore Là Cioè Alla fine Sto usando Buggati al Buggati Come Mediani Non so Se Rendo l'idea Di quanto Sia Offensiva Questa squadra E Potrei Fa così Potrei Potrei Fare in questo Modo qua Che Me ne pare Potrebbe Essere Un'alternativa Quindi Togliere Lui Metterlo In banchina E mettere Quell'altro Attaccante E usare Royce Mezza punta Questo Mezza punta Loro due Mediani Worldback E quell'altro L'attaccante Prendi Modura Eh ma io Quello Volevo prendere Il problema Di quel Modura Perché se Poi lo Puglio Royce Lo devo fare Fuori E Royce È fortissimo Marcolino Royce Cioè Troppo Forte Marcolino Royce Quindi L'unica Alternativa Sana E fare Quei Joe Ellington La E fare Quel Tizio La Ah Devo fare Questo Tizio Qua Renier Qua Joe Ellington Omaggio Chiamato Devo fare Questo Renier E Magari Lo porto In banca Non lo so Me lo devo portare In banchina Giornatori Brasile Minimo 1 Rotazione 83 Ok Ce la dovrei fare Giornatori Di premier Ce li dovrei avere 1 2 3 Bloccato Brasile Mi serve Grazie Ok 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 Ci vuole Un giocatore Ho esagerato Con l'86 Si E allora Ciao Hito Sei servito A qualcosa Va Ok Facciamo 70 Velocemente L'intesa Osimene Ok Quindi Renier Fatto Renier Fatto Buoni spettatori Su Twitch 12 Mila Spettatori Ciao Tony Ti ha Stato Greenwood Grazie Greenwood Un salutone A Greenwood Ringraziamolo Per l'host Grazie Grazie Mille Scusate Ragazzi Troppo Non escono Le notifiche Quindi Degli host Me li perdo Vi chiedo Scusa Vi sto Chiedendo Scusa Allora Prima di andarlo A mettere In squadra Andiamoci A fare La picco 84 Così Almeno La vostra Lutopatia È Completa Dato che Siete Lutopatici Volete La Lutopatia E io Ve la do Allora Giocatori Scuola Della settimana Minimo 2 Scegli Ho Mi sa Che Scegli Quanti Nevoi Di Ergint 279 Dovrei Farcela Perché 82 Si Si fa Con 3 83 82 3 81 E 3 80 Quindi Devo alzare Dopo Vediamo Un attimo Ok Allora Quando devo fare Intesa Scusami Non l'ho Visto 65 C'eravamo Tanto Amati Poi Tuo Marito E' Tornato A casa E non Ci Amiamo Più Ciao Doni Ti ho Stato Putin Grazie Creme Dentro Il Lino Un saluto Al Creme Alla Creme Della Creme Del Creme Dentro Il Lino Allora Allora Ce l'ho Detto Faccio Liga Santander Allora Manca Mezzo Di Giocatori Di Liga Santander Puttana La Ma Yala Se Segna Poi Di Bala Facciamo Serie A Occidentali Scarma Vogliamo Una Medaglia Occidentali Scarma Ci Diamo La Medaglia 82 82 82 Dovrei Farcela Sì Ci siamo 82 Solamente Ci manca La Osimen Intesa Allora Tu vai Qua Tu Sei Morata Vai Qua Tu Sei Zapata Vai Qua Tu Sei Gaia Vai Qua Tu Sei Questo Vai Qua 65 Per Due Non ce La Fa Aspetta Così Va Meglio Perfetto Oh Abbiamo Fatta La Picca Però Ragazzi No Fermiamoci Un attimo Ragioniamo Ragioniamo Allora Io voglio Care Com'è Possibile Che Su Twitch Siamo In 124 Mila Spettatori Sta Ninja Che Sta Dicendo No Non togliermi Il contratto Con Red Bull Ti Prego E su Youtube Siamo Solo In 22 Spettatori 230 Mi raccomando Lasciate Like Su Youtube E Ringrazio Jack Signo Per L'abbonamento Su Twitch Grazie Di cuore Grazie Di cuore A fine Mese Ragazzi Dirò La lista Vi dirò Se ho guadagnato Più soldi Su Twitch O Su Youtube Così Facciamo La gara Quindi Se Tu sei diplomato Io sono laureato Laureato e scienza della comunicazione Perciò parlo troppo bello italiano Hai capito? Perché sono laureato e scienza della comunicazione La scienza che ti permette di comunicare alle persone La scienza che ti permette di comunicare col popolo Allora Ci siamo Dedichiamo questo pack al grande Jack Signo che si è abbonato su Twitch Grazie Di cuore E andiamoci ad aprire questa pick 3 giocatori valutazione 84 più garantita Quindi usciranno 2 giocatori 84 e 1 87 Sicuro al 100% Non ci credi? Guarda Schemi fissi Schemi fissi Schemi fissi Non ci credo Schemi fissi Waiu Schemi fissi Che vi avevo detto? Esci un 87 e 2 84 Schemi fissi Pragmatic Ma non è possibile Non è possibile Non è possibile Cioè 1 1 ogni taglia da sbagliare Io non sbaglio mai Non sbaglio mai Paolino Di Bala Schemi fissi Schemi fissi Allora Ragioniamo Allora andiamo prima di tutto a mettere quello tizio la squadra Così almeno andiamo un attimo a sistemare pure la squadra Allora Allora Difensore non c'è niente Andiamo a questo Mettiamo questo qua Poi Poro po po poro Poro po po poro Eccolo qua Allora 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 Ah non c'ho la CCCCC Ma bomba niente L'allenatore Ah non è di Bumbens Vabbè Allora gli faccio prendere La fedeltà La fedeltà Prendi la fedeltà La fedeltà 90 Io sinceramente non te la metto a cacciatore Te la metto una bella falco Che secondo me Non ti serve Secondo me Non ti serve Eh Sì Sì Puro per carcerazione Di già 97 Quindi tutti i danni Da poco sprecato Però mi serve quel punticino in più Devo Devo prendere la CCCCC Mannaggia la miseria Guarda là Questa costa proprio un botto Modificatore ruoli COCCCC Vediamo un po' 4002 non c'è 4007 non c'è 4009 4900 criti Cosa ne pensi di Putin? Magari già pensare Cosa devo pensare? Penso che è una merda Sei d'accordo con le tante maglie del Napoli? Beh se le vendessi io sì No Assolutamente no Siamo Siamo ridicoli Però ti spiego pure perché siamo ridicoli Diego Armando Maradona di 10 Ti spiego pure perché siamo ridicoli A fare tutte queste maglie Perché È la prima volta che la squadra Sta guadagnando tanto dalle maglie Perché se le autoproduce Perché sono disegnate Da E a 7 Quindi da Emporio Armani Ma non sono prodotte da Emporio Armani Sono prodotte dal Napoli Calcio In stabilimenti Suoi Quindi le maglie Non sono della qualità Emporio Armani Come molti credono Sono disegnate Da Emporio Armani Ma sono prodotte Dall'SSC Napoli Che quindi producendole lei Ci guadagna un botto di soldi Sopra Ed è per questo che sta facendo uscire Maglie su maglie su maglie su maglie Perché più ne vende Più guadagna Perché a me nella società di calcio Questo va a fare magliette che ne so Da Adidas per dire Su una maglietta è venduta A 70 euro 90 euro Ci guadagna 15 euro Il Napoli su una maglietta è venduta A 90 euro Ci guadagna 45 euro 50 euro Forse pure 60 Capito? Perché paga solo il disegno Beh Ti si è mostrato Ci ha per il panerbo da solo E beh Saranno gli spiriti No? Allora Allora Quindi In sostanza Sto mostro Ma sto mostro Ma quanto posto In tutto ciò Se si costa 82 La faccio La sfida C'è l'ho aggiungato Che me ne credo Eh Ah dai Intesa 80 però Tieni duro E sogna E infine Noi Uno Due E tre Minghe No Ma vediamo una cosa Se metto pure l'84 Magari Sei un giocatore del belgio però Eh Vorrei una notte E poi improvvisamente Ok così è fatto Io ve lo completo questo qua Tony tu ti ferresti la squadra di Juventus per 50 miliardi di euro per un giorno 50 miliardi di euro per un giorno Bello Nicola mio Tu non conosci il valore dei soldi Perché a me Se tu mi dicevi Per un milione di euro Cioè 50 miliardi stai parlando di 50 mila milioni di euro A me si mi dicessimo Un milione di euro di venderessi Juventino a vita Ma la può club Ma che cazzo Tenga Con un milione di euro Mi venda proprio la dignità Ma quanta Capite C'è fatica 40 anni La vita A me per un milione di euro E non lo vedrò neanche Nel senso Capito Lo Lo movimento Un milione di euro Ma che vuoi dire Sì Io sono un venduto Te lo dico chiaramente Mi venderei subito Però Però Sappi una cosa Che pure se di fasciata Farei lo Juventino Nel mio cuore Nel mio cuore Porterei sempre il Napoli E il giorno che la Juve perde Contro il Napoli Dirò Ma che sfortuna abbiamo perso Quando mi dispiace Ma quando mi dispiace Che abbiamo perso La nostra G-Band S'ha perso Ma com'è potuto succedere Cioè quindi in realtà Stricce Sì per i soldi Ma dentro di me Non mi cambierei mai Capito Non cambierei mai Il mio cuore napoletano Il mio cuore Meridionale Ah Ma faccia Non No Mi dissocio Togli un po' di musica Che faccia la scoteca Io Io sono uno streamer Non sono la scoteca Torizzano ti vuole bene Pure io mi voglio bene Allora Ehm Allora Adesso andiamo Sono Precisamente Il live Da 56 minuti E 52 secondi E il content Di FIFA È già Finito Grazie Grazie Che cazzo Devo portare Adesso Cosa devo fare Cosa Spiegamelo Come on Ehi Cosa devo fare Marcellino Panebino Cosa devo fare Ci completiamo Zinedinzi D'anni in prestito Che devo fare Che cosa dovrei portare Adesso a questi Baldi giovani In live Fammi sentire L'ecom Mi da scelta End Con l'occhio Peccato 10.000 credit Non ce li ho giocatori Si riesco a fare Una sfida 87 Già ho fatto tutto Una cosa La possiamo fare Possiamo aprire Il pacchetto 2582 Per Anche se in realtà Non viene a prima Domani però Domani con I Foot party I foot party No No Non sono Un domini Grazie Dove stanno Scambi con i due Ah Ne tengo solo due Quindi devo fare Il terzo Che Due Coglioni E noi potremmo fare Questo stasera No Ci possiamo andare A completare Questa sfida Questa challenge Questa challenge Potremmo andarla A completare E poi ci avremo Il pacchetto 82 Tanto alla fine Che si tratta di fa Fammi vedere un po' Fammi vedere un po' Fammi vedere un po' Porta poi Gli fa capire Ah Quando faccio tempo Frate Scambi icon Ah Liga portugallo Ce l'ho già Ce l'ho già Vinci sei partite Cambiuno superiore Contici giocatori portugali Devo fare solo 5 E ce l'abbiamo Quindi Potremmo fare questa Un'estitica Fai No Non faccio l'estitica Faccio lo youtuber io C'è un canale youtube Dal 1972 Il primo canale youtube Di fifa in italia Prima Prima che nasceva fifa Io già c'ero Rose sperimentali Mo' qual'è Sì Era questa qua La portugese No Lo stavo giocando Questo 79 Vabbè Mo 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 Ci andiamo da fare Allora Liga Do portugallo Do portugallo E forse capirà Capirà Perché la verità Tu non l'hai detta mai Tu non l'hai detta mai No pure beve Non tengo più Gravissimo Liga portogallo Uno Aspetta che stai a 79 E velocità Ok Giro per secondigliano Per secondigliano Mi compro un Audi nero opaco Un Audi nero opaco A fare un po' che schifo Potrei far così Potrei far così Ci vado a mettere la Attivino Così Chiliberto Un po' che pace Zuzzi Che già fa Beh Così Dovrei riuscire a vincerlo No Dovrei Dovrei essere leggendo Non è vero Non è vero Dici una bugia Ora te lo dimostro Mentiroso Sei un mentiroso Vinci Sei partite Squadra battaglia A livello Cambione Superiore Complici Gioratori Della Liga Portogallo Tra i titolari Eccolo qua Sta scritta Nessuna parte Che ha messo l'argento L'argento Già l'ho fatta Se l'ho fatta Ho fatto una squadra Tedesca Argento Tutti primo proprietario E quindi mi sono fatto Tutti e tre insieme Ma qua Devo fare solo Campionati Quindi no Tony Leggimi Ti ho letto Ma se che metti I titolari Puoi mettere gente forte In banchina E in game Per i cambi Ti dico Conte E' strautile Ah Perché quello Giusto Dice 11 giocatori Della Liga E' tre titolari E' vero Bravo Quei ragazzi In gamba Bravo Bravo Fiore Bravissimo Bravissimo Lei è un fiore All'occhiello Se lo faccia dire Se lo faccia dire Allora Quindi tre sostituzioni Mettiamo tre giocatori Chiave Allora Io direi Di schiattare Un grande Centrocampista Ok Anche se in realtà Il centrocampo Sto un po' Che mi si è buono Quindi non mi serve Mi serve sicuramente L'attacco Quindi mi serve Mi serve Per forza Pelé Per forza Pelé Ok Poi Anzi Mi serve pure Lo secondo attaccante Quindi prenderei E poi A questo punto Mi porto Un difensore centrale Da mettere Un difensore centrale Che contro Io lo porto Ruben Dias Così faccio i primi tre cambi Cambio con questo qua Con Ruben Dias E poi faccio i cambi Dei due attaccanti Centrocampo Alla fine Ah Sono buggati Che me ne futto Ah Onesto Cioè Salve Antonio Iniziare la dieta Una settimana Bravissimo Mi verrebbe da dirti Ma qua La dieta No No Un aggiornamento Non ce la farò mai Io ne devo vincere 5 Pro Uh Zitto che questo è facile Vai Livello campione Dai 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 Poi c'è la squadra Di Move the week Che pure si può fare Ha mai risultato Quando il Napoli ha perso Ma avevi vinto la schedina No perché non me lo gioco mai Il Napoli contro Lo sai È proprio una cosa mia Il Napoli lo gioco O over O Non lo gioco proprio Cioè L'uno del Napoli Non me lo gioco mai Però Per esempio Mi capita di giocarmi l'over Tipo per esempio Ho perso 1300 euro Per Napoli Barcellona All'andata Perché tenevo l'over 2 e mezzo Avevo fatto una schedina Con 15 over No Eh 15 over Il cazzo a di Con 7 over E ho perso Solamente L'over di Napoli Barcellona E non ti nascondo Che ci sono Veramente Veramente Morto di collera Nel vero senso Della parola Mi sono dovuto Quando riuscivi a vendere Per i 99 I Bifo 20 Veramente Ah sì È vero Io tenevo per i 99 Moment Prime Scambiabile È vero Non si riusciva a vendere Perché non c'era nessuno A tenere otti quei milioni Per comprarlo Porco Due Mi ha fatto ricordare Non mi vuole che fai sti numeri Se ne hanno tutti in botti Ci lascerai Te ne fai su Twitch No Mai Farò sempre doppia live Non esito Ormai Ormai ho scoperto Un mondo Cioè Io posso stare in contemporanea Sia su Twitch Che su YouTube Guadagnare i soldi Per due Cioè Ragazzi Voglio bene Mettetevi nei miei panni Di Mone Grabber Cioè È tipo come se Fosse sceso Dal cielo Papà Natale E mi abbia detto Ciao Tony dentro il tubo Il tuo regalo di Natale Quest'anno arriva Il mese di marzo Ti ho regalato Restream Puoi streamare In contemporanea Sia su YouTube Che su Twitch Quindi Nel mentre Ricevi un abbonamento Con Amazon Prime Video Puoi ricevere Una Super Chat Nel mentre Ricevi una Super Chat Puoi ricevere Un abbonamento Amazon Prime Video Nel mentre Un Prime Video Non Video Amazon Zoppa Bene Capita Bambini Bye No Puoi giornare Quando vuoi tanto Non ti conta Solo i punti Delle Squid Battle Quindi no problem No Finiscono le partite Se finiscono le partite Maron Chi è Ah Cagomo Grazie Scusate Cosa ne pensi Della Sama Buildabend È un grand'uomo Zashman Di cazzi Esco Stiamo Reb Ma Mi stai Su Tu Ci Siamo 0 9 Adl Che Saresti Sanno 1909 Credo Sto sia in contemporanea Sia su Twitch Che su Youtube Sono l'unico Youtuber Autorizzato Nel pianeta Terra A poter fare Questa cosa No scherzo Ciao Matteo Roberto Grazie mille Per l'abbonamento Bentornato Nella family Di Youtube Grazie Matteo Cioè Semplicemente Perché ragazzi Non sono partner Su Twitch Se voi vedete Il mio nome Su Twitch Non c'è Verificato Perché non sono Partner Quindi Essendo che Non sono Partner Di Twitch Posso Da non partner Non dare L'esclusiva Di live streaming A Twitch E quindi Fare contemporanea Le live Come voglio No L'ognom Certi Non è Un grandom Ave Tanti figli Bravo Salve Il mio amico Raffaele Trano Ciao Raff Toni come è R9 baby Raff È come un Bappé base Molto simile A un Bappé base Forte Considerevole Però È come Un Bappé È proprio Molto Molto simile A un Bappé Allora Tonio Ti ho mai detto Che Samuele 1909 È mio padre Non ci crederò Mai nella vita Samuele 1909 È un'entità Non è un cristiano Allora Dai Tonio Non da a distrarre Che contro il computer A livello Campione Devi dare il meglio Devi essere un campione Anche tu Tonio Nelle lezioni Che durate un mese Sono anche andato Da un medico Ma non basta Consigli Mi vai da una dottoressa E calò il silenzio È una frase che Secondo voi Le femministe Mi potrebbero accusare Di patriarcato Non lo so Che Dato che oggi Comunque c'è questo Political Correct Molto forte No Mi sta venendo il dubbio Mi potrebbero accusare Di patriarcato Allora Doni saluti A mio migliore amico Luca Ciao migliore amico Luca Ti saluta Tonitubbo Dalla sua live Che onore Che stai avendo Che onore Che stai ricevendo Un giorno racconterai Ai tuoi figli Che il 3 marzo 2022 Alle 21.06 Tonitubbo Ti ha salutato In una live streaming Di Youtube C'è fra Cose che Non lo so Veramente proprio Io le metterei Nell'album Dei ricordi A vita E basta la pena Vivere questa vita Sì Per questi momenti Tonitubbo Dissociate da te stesso Non rischiare Uè Simon G Come stai Un saluto Al mio carissimo amico Simon G Sposato con Ludovica Ah no Lui no Io Scusate No Ci siamo Bumbo Tonitubbo Viva Salerno Mi dissocio Ragazzi Mi dissocio Perché a te Mi bannano Se dico Viva Salerno Non posso dire Non mi dispiace Non si possono Tifare Luoghi Nuclearizzati Non si possono Tifare Mi dispiace Mi dispiace Saluto a tutta la popolazione Di Cerno Di Salerno Allora Potresti salutare Mi chiamo Simone PLS Ciao Simone PLS Come stai Spero bene Spero tanto Che tu stia bene Spero che Questo saluto Ti abbia Allietato la giornata Ti abbia Ti abbia Dato un sorriso Ti abbia Regalato Un momento Di gioia Immensa Essere salutato Dal grande Tonitubbo Il 43esimo Streamer Più famoso Di tutta la provincia Di Napoli E dintorni Olè 22esimo Nel centro-sud Italia Ma com'è Slu 40esima Napoli 22esimo Nel centro-sud Sì Perché Napoli È una cosa fatta E quindi Ci sta Sto bene Grazie Ho visto che hai dato Questi ultimi giorni Con Ludovica Diciamo di sì Purtroppo ci va sempre male Signor Simo Noi Qua Su questo canale Viviamo di un proverbio napoletano Molto molto Addentrato Ovvero Ma c'è Troppo Rom Quindi non Non va mai mezzogiorno Qua Mai mezzogiorno Esce solo mezzanotte E ricantonato Bam bam Che tivo Cosa prenderai Nelle swap icon I pacchetti Perché sono Un ludopatico Clodo Nooo Ma non ti preoccupare Con i pacchetti Tu potrai Segnare Ciao Capoletano Calamari Al succo Di pomodoro Allora I calamari I calamari Sono nati Sono nati Per essere fritti Cioè Il calamaro No Come essere vivente proprio Se lo fai In padella Si offende Cioè Dice Io sarei morto Per essere mangiato così Sei una merda Essere umano Che mi stai mangiando In padella Oppure Il calamaro Arrostito Il calamaro Vuole 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 morire Con Intorno a sé Del buon Uovo Sbattuto Farina E pangrattato E poi Immerso Nell'olio Per fare Il famoso Anello Di calamaro La calamarata Così si deve fare Non c'è Altra soluzione Poi Quando va De cozza Voglio Togli sei stato Penso il primo Youtuber Di cui seguivo Le live Su Youtube Da bambino Ora a 20 anni Sono tornato per caso Qua a vederti Grazie per di tutto Prego caro Noi siamo la storia La storia che finisce La storia che comincia La storia che comincerà O che finirà Non lo so Però siamo la storia Quante partite rimangono Per finire i token? 47 partiti Abbiamo finito Ragazzi 47 No scherzo Mancano a me Queste e altre 4 Ok Ho mai visto Caprone che ha una slot Ha vinto 13 cappi In una partita sola Peccato che non erano soldi Sui come trombare Con quello di un altro Perché non erano soldi sui Che stava giocando Per un amico Grepe Mi spiace Eh appunto Quella è la sorta Quando Quando Non giochi Quando non giochi Sul tuo account Escono le peggio vincite Quando giochi sul tuo account Addio proprio Cosa ne pensi del biologo? È un grande e lo stimo Un saluto al biologo di Acerra Un salutone Ciao Cioè ci stanno Ste vincite Assurde Ma quello Il fatto è che Questi siti No C'hanno quella percentuale Che si chiama RTP Ma per dirvi Per dirvi Un mio carissimo amico Non faccio nomi Ma vi dico solamente Quello che mi presta L'account Da 30 milioni No Si è iscritto Ieri A vincitù E indovinate un po' Indovinate un po' Ma ha mandato la fotografia Che con 0 euro depositati Si è giocato il bonus da 1000 Ha vinto 500 euro Con 0 euro depositati 0 euro depositati Sono diventato Sono i 209 livelli di Goku Cioè quindi per farvi capire Nel scam Devi ritirarla 60 volte Piangite 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 Dando l'amico mia Il si è fatto 500 euro Il si è fatto Senza depositare neanche un euro Grazie alla promo Tony Tubbo Il problema è che Non tutti riescono a rigirarlo Quello si è ovvio Se vincessero tutti Questi andrebbero sotto sopra Ma Una piccola percentuale Intorno al 4-5% Di persone che Che giocano Ci riesce Se fate parte di quella piccola percentuale Cioè praticamente Vincete i soldi Senza depositare niente Quindi It's possible Visto che lui perde solamente Allora gioca i soldi Peggio dei dopatici Per fare incontri Ah Gioca con i soldi Delle altre persone Ah Simpatica questa cosa Lo potrei fare anche io Ragazzi In quanti di voi C'è qualcuno che gioca 20-30 mila euro Dei casino Gli gioco io a lui Io faccio content E lui E lui mi guarda No mamma mia Il cash E vabbè Ce sta E' un po' come Vedi Simo Ecco il discorso che faccio io Con Perché non mi apri il pacco Ai con Tony Cioè Ragazzi Allora se io facessi Facessi No Ogni giorno Apro 10 pack icon 20 pack icon Alla mia community No E poi ho porto un video Ho trovato Pelé Ho trovato Zidane Ho trovato Questo qua Però li trovo Tutti Non sul mio account Ma su altri account Ma voi non la prendete Come una scammata Cioè Potete mai dire Tony è un video vero Però la gente Ormai la scammata sta cosa Io vedo canali Che caricano Le icon aperte Alla gente E La gente non sa la mente niente Dice Ah che culo Ma come che culo Quello non sta Ne sto accanto Cioè Se io ti trovo Cristiano Ronaldo Toti a te Non ce l'ho io Cioè Capito Non ce l'ho io Boh E vabbè Che ce ne vuoi fa E quindi è la stessa cosa Cioè Se tipo domani mattina Per esempio Samu 1909 Che è molto ricco Mi dice Tony Siccome sono Maggiorenne Sono nato nel 1900 No Il reddito Il mio account Gioca 10.000 euro Sulle slot E io vinco 50.000 euro A Samu No Per dire Cioè Non Voi Non lo so Direste Tony Che culo In realtà Le ha vinti Samu Cioè Anche se glielo ho giocati Io le ha vinti Samu Non le ho vinti Sarebbe un po' come Rubare content Non mi piace questa cosa Sono una legge Il tuo padre Un piatto Come ti permetti Di scrivere queste cose Io le banno L'esistenza La banno Dall'esistenza La banno Come hai fatto A mettere quella linea Sui giocatori È un segreto Di noi youtuber Famosi Ma perché Lei è famoso No No Nelle impostazioni Visuale Puoi cambiare Tutte queste cose Puoi mettere i nomi Di giocatori In alto Sull'indicatore Devi andare Nelle impostazioni Di gioco Proprio Sul menu iniziale Quindi menu iniziale Tutto in fondo Vai sulle impostazioni Visuale Puoi cambiare Quello che vuoi Cioè Vedi Leggi Ci stanno un sacco Di cose Da poter cambiare Diciamo che Esalti il fatto Che porti fortuna Agli altri Così più gente Si scrive E ti segue Secondo me Non è come Il content Funziona Vedere gli altri Vabbè Quello è ovvio Cioè Ci sta Ci sta Ho capito Che dici tu Effettivamente Magari uno In quel momento È curiosito Poi c'è anche Da dire Che una volta Che la slot L'hai aperta Magari Sanno Che l'account Mio È l'account Tuo Cioè Chi passa Per la prima volta Non lo sa Quindi Pensa che è il mio No Pensa che è l'account Mio Beh Se uscisse qualche Ludopatico Qualcuno che vuole Vuole videotoni Questa sera Ho 2000 euro Te li lascio a te Giocali come vuoi Io sono a disposizione Ragazzi Lo dico anche Su Twitch Dato che siamo In 14.000 Spettatori Su Twitch Se c'è ragazzi A disposizione Quanti soldi Speso su FIFA 8 milioni di euro No Cavolo Speso Tutte quelle 50k In 4 anni Mi potevo Comprare Una casa Mezza casa Quante sigarette Fummi al giorno Parecchie Non le conto In verità Donne se Vincessi Veramente Già ti avrei dato Metà dei soldi Stingop E una piscina E una Ferrari Vedi Lei è un mitico Signor Samo 1909 Donne da quando porti Gli occhiali Da quando Da buon napoletano Mi sono praticamente Sparato un petardo Nell'occhio A 17 anni E a 21 anni Ho messo gli occhiali Perché poi Da quella botta Che presi Da quel petardo Che presi Negli occhi Ho iniziato Ad avere la vista Che calava gradualmente Quindi Ho dovuto Pettere gli occhiali Ma neanche su FIFA Apri i pacchi E gli altri Per far vedere Che porti fortuna Finché Vedono Che non trovi Un cazzo E torni canale Morente Peggio di prima Già te per scontato Mi spieghi Il sito Che non ho capito bene Il primo sito Del comparatore Il comparatore Lo trovi Al secondo link In descrizione Si chiama Vinci tu Se vai tramite Il mio link Hai un bonus Senza deposito Da poter sfruttare Al momento Che dai documenti Tony perché non hai Il mio record In questo momento Non ti preoccupare Per la tua laurea Per te non è un problema Vero? Non ho capito Questa storia È tragica Un botto Tony In realtà Vi spiego Come è accaduto Praticamente Sono stato scammato Dai cinesi Perché Comprammo I botti in aria Ok Quelle lì Che Le batterie Di cartone Che partono da terra E fanno Il botto In aria No? Hai presente? Quelle che Così E c'era questo cartone Grande così Con due mici Una qua e una qua Le mici In realtà Serviva Quella là Per essere collegata A un altro cartone Per farle in sequenza Nel caso in cui tu volessi fare I cartoni in sequenza C'erano queste mici Che andavano unite Io non lo sapevo Vedevo due mici E in testa a me Pensai Che erano le mici Di sicurezza Quindi Se io accendevo Quella in alto Sarebbe partito Il colpo in alto Se accendevo Quella in basso Partiva il colpo in basso Quindi mi ci affaccio Con la testa sopra Accendo la prima micia Parte il colpo in basso Il tempo che io mi sto spostando E quando il colpo fa così Mi prende sotto lo zigomo Lo zigomo Lo zigomo Come lo ho detto Mi prende sotto lo zigomo Lo zigomo E mi esplode in faccia Quindi facendomi Un ustione Che per fortuna Non ho riportato segni voi Un ustione lieve Ma soprattutto La botta sotto lo zigomo È stata talmente forte Che ho dovuto portare Per due mesi La benda sull'occhio Stile capitano uncino E questo fatto di aver portato La benda sull'occhio Ha fatto sì Che per quei due mesi L'occhio destro Che era l'occhio dove non mi ero fatto niente Si sforzava di più Sforzandosi di più Praticamente ho iniziato a prendere dei gradi Poi che succede? Che siccome quest'occhio Teneva dei gradi Perché si sforzava troppo Proprio perché io con una benda sull'occhio Giocavo tipo 7 ore al giorno ai videogames Se non me ne fregava un cazzo Per la serie Con un solo occhio giocavo Stavo davanti alla Playstation Davanti ai monitor Vecchio stile Senza le lenti protettive Senza i cosi Lasciamo stare I vecchi monitor Indoor a cabina Quelli lì praticamente Ti buttavano tutti i raggi UV Come cazzo si chiamano In faccia Comunque mi facevano male E niente Quindi mi mettevo Con Con Diciamo queste cose qua Ho avuto un primo Diciamo Un problema all'occhio E Dal lì me lo sono portato dietro Quando poi ho tolto la benda Anche l'occhio sinistro Per Per aggiustare La vista All'occhio destro Ha iniziato a sforzarsi Pure lui E quindi Ho iniziato a prendere Pochissimi gradi Da una parte E dall'altra Inizio avevo 0,75 0,25 Quando ho messo La mia volta Gli occhiali Oggi A distanza Di oltre Dieci anni C'ho 1,50 E 1,25 Mi pare O 1 Non mi ricordo Quando devo vedere Però C'è aumentato Perché è normale Che aumenta Però Non di Di Tantissimissimo Che peccato Che non lo fare Più che No io da allora Non ho più sparato Un botto A Capodanno Io prima Sparavo Proprio le bombe a mano Era il classico Napoletano Che ti sparava Pure le bombe a mano Guarda Avevo 16 anni Capodanno Che avevo 16 anni Penso di Di avere sparato Insieme a mio zio Nicola Ci mancava veramente Solamente Che sparava Capistole Con fucile Che avevo sparato Con tutto È una battuta Ovviamente Perché Avevamo veramente Sparato Botti Di tutti i tipi No E Poi Da allora Da quando mi è successa Sta cosa Ho fatto una sorta Di fioretto Ho detto Non sparo più Ma non perché Avessi paura Di sparare Sia chiaro Ma perché Dissi Mi è andata bene Ho rischiato Perché ho rischiato Di perdere la vista Quindi Di diventare Ciego Da un occhio E Ho detto Ah Padre eterno Me l'ha mandata buona Non Non devo sparare più E infatti Poi non ho sparato C'era un Capodanno Non Non sparo Botti Per niente Non esiste Trove Anche se Mi affascinano Vedessero Il mio amico Pocio Ciao Pocio Tonio Mille euro Prendili Vai Mandami la Password Dell'account Così poi Dopo le live Ti acro Ti immagini Ma io Ieri Ho caricato 400 euro Oggi Non li ho ritrovati Mandati Su una pipa Che non è mia Perché se Qui sul sito Viola C'è Perché Ho doppia possibilità Di monetizzazione Mi so Face Lo posso fare Quindi Lo faccio Non vedo il Io non vedo il Perché no Cioè devo approfittare Del fatto che non sono Partner di Twitch Quindi Il fatto che non sono Partner di Twitch Posso streamare anche Su YouTube E allora lo faccio Sono tantissimi i canali Che lo fanno E non sono l'unico Ragazzi Se girate Soprattutto i canali Delle slot Io da là L'ho capito Che si poteva fare Se girate I canali Delle slot Italiani Vedete Tantissima gente Che stream In contemporanea Sia su YouTube Che su Che su Twitch Basta essere Affiliati Su Twitch E non Partner Perché Quando diventi Partner Hai il contratto Esclusivo Sullo streaming Quando non sei partner No Allora No Rosario E Milano Consigliano Per nulla Chi dà Ci acconsente Doni Tu Sei un fascista È una domanda Assolutamente No Mi dissocio Da questa affermazione E la trovo La trovo Veramente Inutile Mario LSD Assumi Assumi Tenere responsabilità Di ciò che hai detto Di accusare Una persona Di Di un reato Perché in Italia È un reato E prendi Nelle conseguenze Essendo Bannato Dal canale Via Banna Sì Banna Allora Ragazzi è un reato Non si fanno queste domande Lo sapete che è un reato Si chiama Apologia del fascismo È un reato Non puoi accusare Una persona Di cose del genere Ma poi a parte Io lo so Perché me le dite Ste cose Solo su Twitch Perché volete che io Vi risponda in un certo modo E mi volete far bannare Allora prima Che arrivano sti coglioni Che mi vogliono far bannare E li banno io a loro Vediamo Chi ce l'ha più dura Due bannati Due ragazzi No ma Sai perché? Perché Io certe cose Purtroppo Essendo che sto sul web Da tanti anni E certe cose Le capisco Io penso che sono Comune scemo Faccio sto lavoro Da tanti anni E certe cose Le capisco Questa domanda Era semplicemente Per istigarmi A una risposta Che le so Del tipo poliardica Come fece il Cerbero Col saluto romano Che fecelo Per scherzare Il saluto romano E li bannarono Allora onestamente Io ho capito La situazione Persone del genere Che vengono Con lo scopo Di Farti la domanda E farti bannare Eh 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 Non va bene Allora Che ne pensi Del premier ucraino Tiene le palle Cioè lo dico Prima in napoletano Tiene le palle È un grande uomo E te ne palle Cioè Un comportamento Davvero leader Davvero leader Una persona Veramente Quei coglioni Con le palle quadrate Allora Quell'anno eri Al numero Di Quell'anno eri Nel numero Dei feriti Nominato Del DG Per i botti Di Capotano Della Campania Puoi dire Di essere finito Nel TG nazionale Sì No però In realtà No Sai perché Perché Io ho presi La botta All'occhio E non andai In ospedale Andai Direttamente Dall'opulista Che Essendo che Nel paese Ci conosciamo Un po' Tutti quanti Andammo direttamente A casa Dall'opulista Mi visitò L'opulista Quindi non sono mai Insultato in ospedale Non sono andato in ospedale Vuole perché Se andavo in ospedale C'era tutta la pratica Con i carabinieri Con le cose Capri Nella dottura Di coglioni Poi era solo l'occhio Cioè Alla fine Se mi avesse detto L'opulista Vai in ospedale Perché È grave Ci sarei andato Di borsa Quindi andai Prima Da lui Che poi manco A fare la posta L'opulista Mi stavo Proprio sulla strada Per andare All'ospedale Quindi Mi feci un attimo Visitare da lui E Lui disse Che era tutto a posto Che non c'era bisogno Di andare in ospedale Non c'è andare Mi mise lui Delle creme Mi fece tutta la cosa Poi mi visitò Il giorno dopo Eccetera Quindi Poi invece Ti ricordi Quando avevi fatto Quella live Che facevi vedere Tutti i posti Su google mappa Mamma mia Che ricordi I posti più in Altro che Geolocalization La Come si chiama Geolocalizzatore Grande Tony Grazie Coco Non spammare Che ti rendi Ti sospendono Non spammare Te lo dico Tranquillamente Allora Tony Sicuranza Mi parlo Cazzo Sto scherzando Ma Vabbè Basta Stai scherzando Ma almeno Ti sei divertito Almeno Quello Perché Altrimenti Poi che scherzo Se non ti sei Neanche divertito A me Mi fai Tenerizza Mentre Spero tanto Che tu Ti sia Divertito A insultarmi Madonna Quella Lebera Fantastica Dopo Dovevi Cercare La Mezzia Terme E' Verro Perché Cercare Tutti i paesi Mi dicono Dai Andiamo a vedere I posti In Africa Che spettacolo Che spettacolo Ma noi Ci sono Tanti Ci sono tanti Format Questo Dico Soprattutto A quelli Che stanno Su Twitch Che Ascoltano Ci sono tanti Di quei Format Su Twitch Che sembrano Portati Da alcuni Canali Che in realtà Noi li abbiamo Fatti In tempi Non sospetti Cioè Noi Noi Quattro Cinque anni fa Sul mio canale Youtube In live Abbiamo fatto Scherzi telefonici Abbiamo fatto Ehm Ehm Come si chiama Questo Discord Aperto a tutti Siamo stati Uno dei primi A farlo Il Discord Aperto a tutti Ma queste poche persone Se lo ricordano Non dico Sono stato il primo Perché non ne ho le prove Però Siamo stati Tra i primi A fare il Discord Aperto a tutti E il Discord Aperto a tutti Me l'hanno Tra virgolette Copiato subito Un sacco di canali Che l'hanno reso Il loro format principale Però all'epoca All'epoca L'idea Di Aprire il Discord A tutti quanti L'ho avuta io Ma questi se lo ricordano In pochissimi Cioè Tenevo 40.000 iscritti Tenevo 30-40.000 iscritti Aprivo il Discord Facevo entrare la gente Chiacchieravamo Facevamo Poi purtroppo Aumenti di popolarità E certe cose Non le vuoi fare più Perché Perché Praticamente Entra uno E mette la canzone Del regime Entra un altro E inizia a urlare A morte I n world Cioè Inizia a fare Tutte queste cose E quindi Tu hai Vogli Dici Mi dissocio Mi dissocio Mi dissocio Intanto Sta roba Che sta sul tuo canale Passi Guare E quindi L'ho dovuto togliere Ma non Che gol L'ho dovuto togliere Capi? Comunque Per non sbagliare Tutti i live Contemporanei YouTube E Twitch Puoi supportare Grandi Torni Mi raccomando No ma Effettivamente E' geniale Questa cosa Wey Angelo Abagnale Grazie mille Per l'abbonamento Su Twitch Un bacione Cinque mesi Grazie di cuore No Allora Io sinceramente Questa cosa Del restream La volevo già fare Però il problema mio Era tecnico Non era Un problema Tra virgolette Legato a A come prende La community Come non prende La community Perché alla fine Tu stai Sia di qua Che di là Riempi gli spazi Ovunque Secondo me E' un win-win No Cioè Non puoi mai perdere Stando su entrambe Le piattaforme E' una cosa bellissima Anzi Io fossi in Twitch Fossi in Twitch Darei questa possibilità Pure ai partner Perché sarebbe bello Pure per i partner Poter utilizzare Gli altri servizi Di streaming Cioè Vi faccio un esempio Guardate Quanto sarebbe bello Poter fare In contemporanea La live su YouTube Su Twitch Su TikTok Su Instagram E su Facebook Live Via Sei ovunque Certo Però ci potrebbe Una chat unica Perché mo Una chat Ce l'ho col telefono Un'altra Ce la tengo così Sul computer Sei mai stato a Brescia Mi sembra di sì Sì Ma non mi ricordo Per cosa Però Però mi sembra di sì Doppio abbonamento Sia su YouTube Che su Twitch Grande Angelo Ma sei un grande Cazzo Lei è un top supporter Ma grazie di cuore Ma veramente Sei troppo gentile Voglio Grazie 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 Tony Se riportassi Quegli scherzi Il problema E degli scherzi telefonici Che ci accorgemmo Che i migliori Si dovranno fare il pomeriggio Perché Tu gli scherzi telefonici Più divertenti Di fare le attività Sembra una cosa brutta Da dire così Perché gente che lavora E tu gli vai a rompere il cazzo Non è manco eticamente Proprio bello Però se vogliamo ragionarci Effettivamente Gli scherzi più divertenti Li puoi fare Che ne so Chiamando In un negozio D'abbigliamento In un negozio Di massaggi Nei negozi Dove si fanno Le cure del corpo Queste cose qua E questa è tutta attività Che c'è alle 8 di sera Che cazzo sta aperto Alle 9 di sera Quindi non li puoi fare Così Non li puoi fare Gli scherzi telefonici Su entrambe le cose Infatti c'è sta Nola Luca Sepe Che fa la radio Che fa come orario Di radio Fa la sua trasmissione radio Dalle 5 del pomeriggio Mi pare Tipo fino alle 6 Poverina cazzata O forse dalle 6 Alle 7 Comunque Tra le 5 Alle 7 Quella è la fascia E lui Ne fa un sacco Di scherzi telefonici Perché in quella fascia L'area là Acchiappa Attività Gente a casa Cosa Capito Infatti È divertente Ma non riesce a fare L'hab in pomeriggio Per fare gli scherzi Ragazzi Gli scherzi telefonici Sono belli Però Sono molto Invadenti È brutto Porta un format Del genere Perché è invadente Cioè tu Pure che chiami Allora facci un esempio Te la butto lì Chiami una pizzeria Inizia a prendere per il culo A questo E stai 15 minuti A telefono Con questa persona A prenderlo per il culo E a ridere e scherzare Se in quei 15 minuti Hanno chiamato 3 clienti E l'hanno trovato occupato E volevano ordinare Tu a quella persona Gli hai fatto un danno Cioè Gli hai fatto perdere soldi A una persona che lavora Come ti senti? Capisci? Forse sono io Che mi pongo troppi problemi Me ne dovrei sbattere Però non ci riesco Cioè Capito Davanti a persone che lavorano Ma tu come fai A metterti a fare Una cosa del genere? Andiamo alla seconda persona Su Twitch Purtroppo Purtroppo Gli scemi Abbondano Era pure poco seguito Il pomeriggio È vero Pure perché La maggior parte Il mio pubblico C'è la sera Quindi sì Il pomeriggio Effettivamente Non Non ci andavo bene Una volta A mio cugino Ho fatto uno scherzo Telefonico Con l'elio O vallogino Grazie Ma figurate Non me ne accorgo Da solo Quando inizia a vedere Sta gente Che inizia a fare Battute di merda Ste cose qua Ah ma c'è ancora Gli aggiornamenti Ah ok Quindi ne ho ancora Gli aggiornamenti Da poter fare Va bene Va bene Questa è un'altra squadra Argento Ok ce la potrei fare Ma mai Cominciamo a due Nella terza partita Questa moto dovrebbe essere Vabbè dopo controlliamola Sei mai stato a Cosenza Sì sono stato a Cosenza La mia infanzia Quando vi siete Qui si mi è dispiaciuto molto Dispiaciuto anche a me Potresti far vedere L'impostazione della visuale È zoom Zoom a 0 E altezza a 20 Tribuna stampa Questa è Questa è Ma allora quanto è brutto Sto stadio Col sole tutto da un lato Facciamo i cambi PORO 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 Nel Comic Con ci sarò Spero di incontrarti Mi incontrerai Al 100% Devi solamente Saltare un padiglione Per non incontrarmi Perché sarò Tutti i giorni Del Comic Con Poi vi faccio sapere bene Il padiglione Però sarò Tutto quanto in un'area Nell'area gaming Ci sarò Tutti i giorni Del Comic Con Quindi Non mi potete Proprio mancare Al Comic Con Non Se mi volete evitare Mi trovate davanti Agli occhi Quindi Se non mi volete Vedere Pure mi vedete Quindi Pensate Olè Ma Puoi fare partite All'infinito E Squid Battle Solo che non ti dà punti Dopo che finisci Gli aggiornamenti Ah Fighissima Come cosa Non la sapevo mica Fighissima Come cosa Quindi Quindi posso Pure prendere Sempre la squadretta Bronzo Che c'è all'inizio Ma che figata Ma dov'è il comodo Lo fanno Alla mostrata Oltre male Ma sei ancora fidanzato Sì Serato in compagnia Il signor Tony Che è lusso Tori A parte gli scherzi La gente dopo sto covid Non sta bene Tutti frustrati Ma sai che cos'è Allora Il web Si sta Trasformando Ancora di più In quella In quella parte Oscura Del Tanto sto dietro A una telecamera No Cioè sto dietro A uno schermo Il famoso Danno Che si è sempre detto No Che le persone Sul web Si sentono forti Perché stanno dietro A uno schermo Si sta ampliando Cioè è una cosa Che prima c'era Oggi c'è ancora di più Oggi Sono tutti Tutti delinquenti Tutti Tutti Se mi guardi male Io ti ammazzo Se mi guardi così Io ti faccio questo Poi quando scendo per strada E cammino in mezzo alla gente Mi rendo conto che Non è che c'è sta Tutta sta Diciamo Criminalità Che come sembra Sul web Cioè Internet Ti dà la percezione Che qua Stiamo nella terza Guerra mondiale Già Ma tribuna stampa Su tutto Oppure solo sulla visuale Su tutto Io tengo tribuna stampa Tony ma non vuoi più Video Confuse Gamer Ragazzi Si è uscito ieri Valla a vedere Sta sul canale Tony puoi dire Una alla destra Della Premier League Alla destra Mani Mani Ad O S Non mi ricordo Beh comunque No Momo Salah Oddio Mi piace Non mi piace Wolf Adama Traorefrizz Bello Bella Adama Traorefrizz Che ne ammenti Del fatto che Panda Boy Abbia superato Favij E chi è Sto Panda Boy È italiano Cioè nel senso È uno di quelli Che ha l'account Registrato in Italia Come Marzia Ma O è uno che fa Vavivi di italiano Italiano Non lo conosco Ma è strano Quindi Favij è stato superato Come numero di script in Italia Per me rimane sempre Un numero uno Favij Perché quel ragazzo Ha rivoluzionato Il mondo di YouTube E rimarrà sempre Un maestro Favij Non me lo toccate Perché è un ragazzo D'oro Favij Veramente Ragazzo Veramente Un ragazzo Doro Giocolino Gioco con Gravenberg Non mandato In Neres Sotto Adotto Le mie provate Gravenberg Si In Neres No Forti Forte Gravenberg Yuppidupidu Ehi Ah 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 Togli se mai stato Abbasto Sì In Puglia Come no Sceso Stato Cosa ne pensi Di social boom Io con social boom Ho un aneddoto Che fa ridere Quando stavamo Al games week Praticamente Dopo il games week Parlo del 2019 2019 Sì Ci vedemmo Fuori al lobby A milano E Stavo Cioè Ci vedemmo Era uno di quei locali I lobby di milano Insieme al moba No Era più frequentato Da Da streamer Di youtuber Eccetera E io Avevo Una certa amicizia Col proprietario Del lobby Che Tanta che mi mette Andai pure a streamare Dall'interno Del lobby Di milano E Va beh Stavo fuori al lobby A un certo punto Mi vedo venire Mi vedo venire flame Che viene Ma abbraccia Ci saltiamo addosso Come stavo Facciamo i soliti No Napoletani Romani Che si incontrano A milano Saluto Tutubi Ci stava Rubino Ci stava Non mi ricordo Che cazzo C'era Forse Oh mi adoro Ma non me lo ricordo No Mi adoro Lo incontrai No 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 Lo incontrai La sera dopo Comunque stavamo là No E c'era social boom E io All'epoca Nel 2019 Stava Stava lì Uscendo Social boom E io Faccio Oh Ma questo assomiglia A quel coglione Che vedo sempre In tendenze Che parla Nelle instagram stories Degli altri Flame Che stava bevendo Sputa tutto E fa Tonino E lui Il coglione E mi fece Nella tenerezza Quel ragazzo Perché non disse nulla Non disse nulla Sì sì Rimase Rimase Tipo bloccato Così C'è Infatti Capire Che Io poi ci ho pensato Che è un figuro De merda Che ho fatto C'è Ma non perché La figura di me Dalla fine Io ho sempre pensato Che quel prodotto L'hanno È mai piaciuto C'è Le instagram stories Degli altri Va bene fare gossip Ma Le cose che Le instagram stories Nascono Per essere messe lì 24 ore E morire No Quindi Io penso a tante storie Che ho fatto Pure io Mi darebbe Leggermente Fastidio Di trovarle Fuori contesto Dopo anni Quindi non lo so È una cosa Che non mi è mai piaciuta Però Sono cazzi sui C'è alla fine Io Chi sono per Giudicare Il contenuto Di un'altra persona Però fatto sta Che io glielo dissi In faccia Dissi Ma assomigli A quel coglione Che sta sempre In tendenze Con le instagram stories Negli altri E Flame Piuttosto Sto bicchiere Da che stava bevendo E disse Ma è lui Il coglione Vedete Mi dissocio Non lo volevo Offendere No Lo volevo Ma però Ero convintissimo Che non era lui Ero convintissimo Che non era lui Pensavo Che era un ragazzo Che gli somigliasse Perciò Glielo avevo detto Va Mi somiglia A quel coglione Perché non ero Non ero Proprio Convintissimo Che non era lui Ma stra 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 Convinto Perché poi Stava insieme I ragazzi del Cerebro Quindi In quel momento Pensavo Che cazzo Sta a fare Insieme ai ragazzi Del Cerebro Una cosa assurda Che stava con loro E invece Vedi un po' Le comunicazioni Secondo me Quello che Sta dicendo Su dose Sarebbe da vergognarsi Guarda Probabilmente Io Allora Io ho fatto La puntata del TG Tubo Dove Praticamente Io c'ho Sto nuovo Format Esce domani In anteprima La prima puntata E La prima puntata Io Come la voglio Gestire Questo TG Tubo Vorrei fare Due Vada Tre notizie Per ogni Puntata Fare una puntata Settimana E Se c'è la settimana Dove succedono più cose Anche due E Una notizia La vorrei fare Di gossip E infatti La prima notizia È Lo scontro Che è successo Ieri Tra Rubino E Riccardo Rosario Ne parlo Domani La inizia Di gossip E poi Qualche news Dal mondo Videogiochi Dal mondo Web Infatti Ho parlato Di FIFA 23 E delle novità Che ci sono Su FIFA 23 Quindi domani C'è questo nuovo Format È simbatico Dateci un'occhiata Ma pure per darmi un feedback Ragazzi Ve lo chiedo Soprattutto per avere un feedback E domani parlo di sta cosa Magari una puntata su questo Pure si potrebbe fare Tanto alla fine A me piace chiacchierare Problemi con la gente Non ne ho Perché Io Onestamente A 36 anni Suonati Mi prendo la responsabilità Di ciò che dico Se faccio nomi Cognomi E dico qualcosa Di qualcuno Mi prendo La responsabilità Di quello che dico Di un solo ragazzino Che lancia la pietra E ti do la mano Cioè Quindi Magari se ne parla Ciao Dani Tutto bene caro Come stai tu Come va Torni ma cosciare Non fa più video Come Allora ragazzi Il problema cosciare Uno solo È che io sto Il fatto che mi sto trasferendo Sto veramente Molto 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 impegnato Non riesco a prendermi Una giornata Quando la registra fuori Infatti sto concentrato Vedi A fare i contenuti in casa Per la maggior parte Se voi vedete L'ultimo contenuto Che ho fatto Fuori da casa Risale a Cinque mesi fa Si può dire All'estate Quindi Non è che dici Vai più video cosciare Però Stai Stai facendo roba Così no Sto facendo giusti contenuti Che devo fare da casa Perché sto in un periodo Proprio di merda Impegnatissimo Ma in che zona Per vivere Nulla da sapere Non ho mai avuto problemi A dire Dove abitavo A Cimitile Ma mo Non ha da sapere Nessuno Dove vado Perché qua Se infatti Qua fuori C'ho sempre 3-4 coglioni Perché così Ti devo chiamare Che passano Puntualmente A urlare Come i dannati Sotto casa mia Che questa è una zona Periferica No Sono solo case E tu inizi E tu inizi a sentire La gente Con la look Chiattoni tu Chiattoni tu Chiattoni tu Ma poi non è che Non dico solo Tone tu Sei grande Sai Dichi complimenti No Chiattoni Merda Cioè Una volta ho sentito Chiattoni Merda Cioè Nel senso E' pure un haters Che viene a urlare Sotto casa Non è solo Solo fan Magari Fosse la fan base Sono un personaggio Odiato Non lo so Forse vabbè Volevano prendermi Per il culo Non lo so Perché poi E' sempre Sempre quell'effetto Che uno pensa Che uno Perché fa lo youtuber Si mostra Che una brava persona E' una brava persona Allora giustamente Puoi andargli A rompere il cazzo Capito Troppo una buona mentalità Di paesino Questa Sì però Dire che si sta attaccando Tutti senza detto Quando ha fatto una cosa Senza 15 mesi Guarda Non voglio entrare Nei dettagli Di questa cosa Tra social boom E di dose Perché come ti ho detto Può essere che Volendo La potrei pure trattare Al tg tubo Quindi non voglio Spoilerarla troppo Ok Però vediamo Sinceramente Allora Sinceramente Io sono molto In linea Col Cerbero Podcast Quando ha fatto L'analisi Su questa cosa Dicendo Si sta creando Il trend Delle donazioni Cioè Aiutiamo Aiutiamo i poveri Aiutiamo a questi Perché fa news Perché fa news E perché E' tutto positive Cioè Io Faccio la raccolta fondi Quindi è tutto positive Io Aiuto Un senzadetto Quindi è tutto positive Ora con questo Non vuol dire Che lo stia facendo dose Attenzione Però Però E' così Cioè Nel senso E' così Si sta creando Un Tra virgolette Filone Come chiamarlo Un trend Di questa cosa E non so quanto La beneficenza Deba diventare trend Oddio Se magari diventa Se magari diventa trend Cioè Aiutiamo tanta gente E' vero Però Non dovrebbe essere questo Perché poi magari C'è chi Diciamo Vuole Vuole avere la privacy Nella sua Povertà Magari ha perso il lavoro Ha perso casa Sta a gravi problemi Però Non vuole Comparire davanti A una telecamera O mettersi a fare Uno show Dove Dice di essere povero Di avere questi problemi Magari vuole un po' più Di riservatezza Allora a quello lì Non lo aiutiamo Perché non è utile Alla causa E' un po' particolare Una cosa Intanto voglio ringraziare Almiro Dipp Che si è abbonato Grazie almiro Un bacione E benvenuto Però questo Lui L'ha iniziato Facendo quelle esplorazioni Assolutamente Assolutamente Io non sto accusando Lui in prima persona Io sto parlando Dell'effetto in generale Di questa moda Del fare le raccolte fondi Per i poveri Perché sta diventando Una cosa di moda Cioè la gente Si sta rendendo conto Che fa un sacco Di visualizzazioni Facendo vedere Io aiuto le persone Io così Io quelli Quindi si crea In realtà Che si stanno creando Canali che Tutto gliene frega Tranne di aiutare le persone Gliene frega Di fare visualizzazioni E quindi Sfruttano il trend Capito? E questo è un baco Spallo Perché penso Che la beneficenza La si debba fare Quando te la senti di fare In privato E senza mostrarla Davanti a tutti Cioè io una volta Penso che Io ho fatto una sola esperienza Con la beneficenza Terremoto in Abruzzo Ok? Guarda di quanti Cazzo di anni fa Ti sto parlando Era il terremoto in Abruzzo Si 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 Se non mi sbaglio Il terremoto in Abruzzo 2014 Si 2014 Un canale di Di 3.000 iscritti 3.000 iscritti Feci una live Di raccolta fondi Sai quanto raccorsi? 126 euro Che per un canale di 3.000 iscritti No? È veramente una bella cosa Pensano 126 euro Di raccolta fondi In live In live Feci la donazione Di 126 euro Via Paypal Alla Croce Rossa Che stava intervenendo in Abruzzo La feci Andai su Facebook Su Instagram Mostrai Nonostante Cancellai solo il mio indirizzo Si vedeva tutto Che avevo fatto sta donazione Oh Sai cosa mi dissero? E se ci hai scammato E se l'hai fatta a Photoshop 126 euro L'ho fatta mo' Cioè Ho chiuso la live Adesso E l'ho pubblicata la foto Ma come faccio? Che non lo so neanche usare Photoshop Infatti Non so Non so usare Ancora ad oggi Photoshop io Cioè Come la facevo? Eppure mi accusarono di sta cosa Allora Allora ho detto Basta Non lo faccio più Addirittura c'era 2016 in Umbria Bravo Luca Era 2016 in Umbria Non era Non era In Abruzzo Era in Umbria Bravissimo Luca Feci sta cosa In buona fede Eppure mi fecero come la merda Addirittura una ragazza Non mi posso mai dimenticare Una ragazza Sapete cosa mi scrisse Dentro un gruppo di youtuber Un gruppo youtuber italiani Spam Tipola così Disse queste cose Le devono fare solo i big I canali piccoli Che cose non si dovrebbero Azzardare a farle Io gli spieghi Scusa Sono proprietario di sto canale Mi spieghi perché Perché Solo le persone famose Lo devono fare Città Ma io nel mio piccolo Mi sono sentito di fare una cosa buona Per aiutare qualcuno Eh Li aiutavi da soli Città io ma tu stai fuori Perché Perché lei disse Lei disse Tu con questa cosa ti sei fatto pubblicità Già parliamo del 2016 Lei disse Tu con questa cosa L'hai sfruttata Per farti pubblicità Quindi la devono fare Sono i canali grandi Che non hanno bisogno Io però In buona fede Non l'avevo fatto Per farmi pubblicità Semplicemente Infatti poi Chi è che donarono 626 euro Si può parlare Rifece le donazioni La maggior parte Tutti quelli dell'Artimate Crew E delle persone Molto vicine al canale Sabino Mi ricordo Dono 20 euro Cioè le persone Molto molto vicine al canale Capito? Allora Tony confermi Che il tuo prime 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 Il tuo prime Su YouTube Era il 2018 No Io ho iniziato YouTube Nel 2014 Settembre 2014 Settembre 2014 Io ho iniziato YouTube Nel settembre 2014 Il mio primo video I 100.000 iscritti Li ho fatti a marzo 2018 Dopo 4 anni Di YouTube Ci ho messo tempo Ci ho messo tempo Ci ho messo tempo Ci sono stato tre anni Dietro a YouTube Ci ho buttato il sangue Dietro a questo mondo YouTube E quant'altro Allora Quando siamo arrivati Scusate Mi era un attimo Confuso Mi sono Mi era un attimo Fatto prendere dalla cosa Traguardi No Sì Traguardi Scambio icon 4 di 6 Ok Altre due partite Abbiamo finito Ok 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 Ma allora Quindi adesso Tipo per esempio Questa qua Vedi già è troppo forte Per sbatterla a campione Quindi Quindi se io mi faccio Aggiorna Lui mi aggiorna Ma non mi darà I I premi Su questa gente Capito bene Però mi conterà le partite Eh Perché No C'è una squadra Troppo forte Guardate qua Squadra forte Però questa c'è Il difensore centrale in porta Figa C'è il difensore centrale in porta Ok Penso che il conto Questo al 100 Dove le faccia Vai No Tony Prime Intendeva che il 2018 E' il tuo anno migliore su YouTube Dipende 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 Dai punti di vista Il 2018 è stato l'anno Che ho fatto più views su YouTube Il 2020 è stato l'anno Dove ho guadagnato più soldi su YouTube Da YouTube Quindi dipende dai punti di vista Cioè l'anno della pandemia Ho fatto Di Dei numeri A livello economico Soprattutto Ho guadagnato molto molto bene Il 2020 Quindi diciamo Che è stato un anno Molto buono A livello Lavorativo Il 2018 È stato l'anno migliore A livello di visualizzazione Tony Malcomic Quando c'è E quando posta Devi vedere sul sito Comic.com Grande Tony Come va Tutto bene Davi Sei mai stato a vasto in Abruzzo Sì Sono stato a vasto Ti ho risposto già prima Prime Significa il miglior momento Ah Ok No ma in realtà Se devo essere sincero Il mio miglior momento Su YouTube Per me Per come me la sono vissuta Io YouTube È stato il 2017 È stato Fino al 2017 Inizio 2018 È stato il periodo Più divertente Per me di YouTube Perché iniziavo a parlare A tante persone E iniziavo ad accorgermi Che stavo facendo lo YouTube Quindi è stato l'anno più divertente Però in realtà Io sono convintissimo E forse sbaglio Pecco di presunzione Non lo so Io sono convintissimo Che il mio apice Ancora non arriva Cioè nel senso Che ho ancora tanto da dare A questa piattaforma A queste piattaforme social Soprattutto perché Non con FIFA Perché io ho fatto Un miracolo Io ho iniziato con un gioco Che era già pieno di streamer Già pieno di YouTuber Già pieno di gente Che lo portava E mi sono riuscito A posizionare In un mercato Dove ero già Cioè io quando ho iniziato A portare FIFA Il vostro caro Dexter Faceva i video E teneva 300.000 iscritti No 100.000 iscritti E faceva 150-200.000 visualizzazioni A video di FIFA Capito? Raga finite La vostra cosa in chat Vuoi sospendere Ste persone Critics Cortesemente? Grazie Dicevo Quindi Io ho iniziato Con Già Joker Che faceva Centinaia di migliaia Di visualizzazioni Su FIFA Dexter pure Imelagodo Gabbo Ron Addirittura C'era 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 Cosa Come si chiamava? Madonna Mi spiega il nome Poi c'era un sacco Di canali Che facevano FIFA E io mi sono riuscito a ritagliare Uno spazio in quel settore Dove sembrava proprio impossibile Quindi ho fatto un miracolo E oggi sinceramente Per come si è andato ad evolvere Il mio canale Anche così c'è questa istituzione Per come si è andato ad evolvere Il mio canale Sinceramente Vedo Tanto potenziale Inespresso Su tante altre cose E sono E sono Pro A A scoprire nuove Nuove Vie Del canale Quindi secondo me Può essere pure che Beccherò magari un giorno L'argomento buono Di tendenza E E mi va bene Toglio di seguire un botto Quando mi piacevi I blog in giro Mi piacevano molto Grazie Fribooter poco professionale Complimenti per il nome Sì no Effettivamente Erano belli i blog Mi divertivo Però Non è Secondo me Il contenuto Dove riesco a esprimere Il massimo I blog erano belli Perché mi piacevano in compagnia Io ho sempre Visto questa cosa Nei blog Secondo me I blog Se fatti da solo Non hanno molto senso Se li fai In gruppo In compagnia Vanno molto 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 Di più Molto Allora Il tuo miglior video È link eliminato Sì Link eliminato È un lavoro Di tanti anni Per trovare Link eliminato Tu non hai idea Cosa ho fatto Tu mi metti Ti dai con 700k Senti Io sarò un matto Ma consiglio sempre Di provare Crespo Prime Sarò un matto Però c'è pure Cantona Che è bello Che costa Più o meno Su quella cifra Io però Te lo consiglio Di provarlo Perdici le tasse Va provalo Poi se non ti piace Lo cambi Io ho trovato Il mid Ci ho fatto Una weekend league Per gioco Ma ha segnato Un botto Proprio È un 4-4 E secondo me Sottovalutatissimo È un proprio Sottovalutato Sottovalutato Tanto 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 No Ah Degrado Punto mp4 Degrado Punto mp4 La storia Non devi ringraziare FIFA per dove sei arrivato Ma solamente te stesso Perché chi ti vuole davvero bene È stato attratto Solo da te Non dal gioco Per me personalmente È così Ma ne ho portato yoga Lo so Lo so Infatti è perciò Che ti dico Che ho tanto potenziale Inespresso Perché Sono sicuro E questa Ma è una presunzione Che ho Vedi Ma uno ci sei presuntuoso Ti atteggi Te lo credi No in realtà Sono anni di esperienza A fare il suo mestiere A fare lo youtuber Che mi hanno Portato a pensare Questo Sono sicuro Che se raggiungessi Pubblico generalista Riuscirei Quindi pubblico Non interessato A FIFA Perché poi parliamoci Chiaro FIFA sia Un bel gioco C'è una grande community Ma finisce là E una community E basta Tu parli a una sola community Se invece Riuscissi a Raggiungere Molte molte più persone Secondo me Riuscirei a farmi apprezzare Leggermente Di più Di adesso Cioè nel senso Riuscirei a Fare il numero in più Infatti il format Che parte domani Serve proprio a questo Cioè serve proprio Io Sono onesto Lo dico Perché non ho mai avuto Peri sulla lingua Non ho mai nascosto Niente al mio pubblico A me quel format Mi serve perché Con quel format Ci posso fare I titoli clickbait Ragazzi Io ve lo dico Senza Cioè lì che io Quei video Non me ne vogliate Non sono pensati Per voi Io ho sempre Fatto un ragionamento Quando io Facevo i video Li ho sempre Fatti Per chi È iscritto Al canale E mai Per chi Non è iscritto Al canale Ed è stata La cosa Che secondo me Ha fatto sì Che le persone Si affezionassero Di più Ad oggi Io questa cosa Non è che la voglio Cambiare Io i video Li faccio sempre Per chi è iscritto Al canale Penso sempre Al mio target Cioè le persone Che hanno messo iscritti A toni tubo Cosa vogliono Poi provo a dare qualcosa In più Tipo come sto facendo Adesso pure quelli Con il casino Con le slot Provo a fare contenuti Che adesso vanno Sicuramente Vedo che piacciono E allora ci continuo Perché comunque il casino Se l'avessi fatto La prima serie Andavano a merda La seconda serie Andavano a merda Io dopo due serie Non l'avrei portato più Perché se vedevo Che il pubblico Non rispondeva Non l'avrei portato Invece Vedendo una bella risposta Da parte del pubblico La gente si diverte Appresso a me Cazzeggia E' una cosa Che mi ha stimolato A farla Detto ciò Ho sempre pensato Di fare video Per il mio pubblico E mai per raggiungere pubblico Oggi Parto con una serie Domani Che mira A raggiungere pubblico Vediamo come va Faccio il primo Faccio il secondo Faccio il test Faccio il quarto Faccio il quinto Perché comunque una cosa Che prima di carburare Ci vorrà tempo Io mi auguro che domani Carico il video E vende in denze No Per dire Me lo auguro sempre Ma sono Sono realista Non succederà Però Ci provo Cioè Semma ci provo Ma lo posso sapere E quindi magari Che ne so Potrebbe portarmi Nuova attenzione Sul canale Sicuramente Potrebbe Far crescere Anquare di più canale Sì Proviamoci Poi dopo aereo Non c'ho Non c'ho soldi Sul 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 bici Tu Non ce l'ho neanche Su euro Sto in una situazione Economico Finanziare Abbastanza Risparata In questo momento Ora come ora Sto fermo Fino a martedì Ormai ho deciso I giorni dove voglio portare il casino Sono il martedì E il mercoledì Che sono i due giorni morti di FIFA Gli altri giorni Cioè Per portare il casino Gli altri giorni O O devo aver fatto qualche vincita Grossa 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 Che tengo i soldi sul coludo E dico giochiamoci Oppure no Non riporto Tony In chat Sono impazziti Stanno iniziando a dire Razzisti Fai qualcosa La gente Stai Sì non so Insta Grilix Banna Banna Tutti quelli Che vuoi Grilix Troppo Gente Un po Stupida Secondo me Il ragazzo Di prima Che ho bannato Su Twitch Che si vedeva Che c'aveva 3-4 account Leggimi Tony Oh Tony Leggimi Ti ho letto Che cazzo Mi hai scritto Grazie a te Conosco Mi hai sentito Un campo Di grano Ah ok Tony Gigi Che nonostante A un milione Di iscritti Continua a portare Sempre quello Che gli piace Ma fa pochissimi visual E che fa bene Cioè Il discorso sta là Raga Allora Avere il milione Di iscritti Avere Mezzo milione Di iscritti Avere 100k iscritti Non è Non significa niente La popolarità Oggi Non si giudica Più sugli iscritti Detto questo È giusto Portare quello Che ti piace Secondo me Sì Secondo me Sì Però Allora Sennò non funzioni Allora bene A me Io adesso Sì è vero Sto sperimentando Ok Però io sto sperimentando Su due cose Che vaffanculo Mi piacciono Cioè io il casino A me Mi hanno detto Dani Ma perché non ci hai portato Il video Dove hai giocato I mille euro Tuoi Eh perché Me ne sono giocati Da solo Il pomeriggio A casa Perché Perché è vero Che gioco al casino Sì È una cosa Che l'ho sempre fatta È vero Che mi gioco Le scherine Sì È una cosa Che l'ho sempre fatta Quindi sto portando Un nuovo contenuto Ma di cose Che non mi piacciono Che le devo fare Perché lavorativamente No in realtà Sto portando contenuto Di roba che mi piace Quando Se vanno a vedere La prima intervista Al Cerbero Podcast C'è un momento C'è un momento Dell'intervista In cui Io dico A Tutubi Che sono Sono rammaricato Perché a me piacerebbe Non portare Solo FIFA Ma portare Contenuti Più discursi Contenuti Che aprono discussioni Contenuti Dove si può ragionare A me piacerebbe Fare contenuti Un po' più impegnati E meno contenuti Leggeri Perché tu Quando fai un video Di FIFA Un contenuto leggero E se vedete La prima intervista Che ho fatto Al Cerbero Podcast Stiamo parlando Di tre anni fa Quindi una roba Di tre anni fa Io già tre anni fa Dico Che mi sarebbe Piaciuto fare Un format Dove Parlavo Delle cose Simile A come Fa il Cerbero No Simile a come Fanno loro Allora Per ritornare E allora Il format Che parte domani No Lo sto facendo Perché Devo fare le di uso Perché mi piace Anche farlo Sicuramente Dietro ci voglio Vedere Il lavoro Che va bene Però Lo sto facendo Soprattutto Perché mi piace Eh Togliati faccio la domanda Tu per me sei un idolo Ti do un piccolo E tu la risposta E si Pietro Pietro Schemi fissi Pragmatiche Bravo Luigi Prima ne abbiamo visti Gli schemi fissi E io Abbiamo visto Abbiamo avuto il picco 84 L'ho detto Adesso esce un 87 E due 84 Schema fisso A cui si è stato Schemi fissi Electronic Arts Tony Io cerco di impegnarmi Ma non arriva un risultato Da tre anni 86 Iscritti Io non capisco come fare Allora Non Il discorso è questo Non ti devi Non ti devi Spazio in dire Devi fare le cose Che ti piacciono Avuto Se una cosa ti piace Non devi pensare I risultati Io così facevo all'inizio Quando ho iniziato il canale Se quando ho aperto il canale Qualcuno mi diceva Arriverai a 10.000 iscritti Gli avrei riso in faccia Gli avrei proprio riso in faccia Perché ero convinto Di arrivare a 1.000 iscritti Ma sai perché? Perché sapevo Che Nel giro di un anno Due anni Avrei incontrato Più di 1.000 persone A cui dire Iscriviti al mio canale YouTube Ma porco Tu sto perdendo La squad battle Cioè Ok? Avrei incontrato Più di 1.000 persone A cui dire Iscriviti al mio canale YouTube Quindi per quello 1.000 iscritti Lo sapevo Che li avrei fatti Ne ero sicuro Che avrei fatto 1.000 iscritti In un anno Infatti io Da buffone Feci la sfida Dissi Nel giro di un anno Se non arrivo A 1.000 iscritti Chiudo il canale Dopo 4 mesi Che avevo aperto il canale Arrivare a 1.000 iscritti Ci ho messo 4 mesi È tutto che mi favoreggiavo Io che in 4 mesi Avevo fatto 1.000 iscritti Però in realtà Avevo fatto 1.000 iscritti Facendo Facendo praticamente Aiutando la gente Nel gruppo di FIFA E appena finivo Di dargli una mano Scrivo Di iscrivi al mio canale Puoi scrivere qualche tuo amico Facendo roba così Detto ciò Detto ciò Sapevo Che ci sarei arrivato 1.000 iscritti Ma mai mi sarei immaginato Di arrivare A 10.000 Cioè Non ci credevo Non ci credevo Perché non pensavo Proprio Che Cioè Il discorso che facevo Io Era banale Dicevo Io sto portando Una cosa Che fanno anche gli altri Ok Sto portando Una cosa Che fanno anche gli altri Perché la gente Dovrebbe guardare E non gli altri Cioè Jogger porta video di FIFA Ciccio porta video di FIFA All'epoca Ciccio che mi riportava Jogger Dexter porta video di FIFA Che ne so C'erano Un casino di youtuber Che portavano video di FIFA Ma perché dovrebbero vedere i miei Quindi non ci credevo proprio Però perché l'ho continuato a fare Che mi divertivo Sto Non mi ha fregato un cazzo Mi divertivo E allora ho detto Vaffanculo Mi diverto E lo continuo a fare Quindi il consiglio che vi do È questo Fate quello che vi diverte Almeno Almeno non vi pesa Se i risultati non arrivano Se i risultati poi dovessero arrivare Ve la vivete Come una Una piacevole sorpresa Ma le ho palle però Ma io veramente Sto perdendo la seconda Non ci posso credere Non ci posso proprio credere Il problema porto FIFA A me piace Ma uno spettatore Due ma non escono subito Ma tu non devi iniziare Con le live Io l'ho consigliato Tutto nel mio podcast Vatti ad ascoltare Il mio podcast E ti rendi conto Che l'ho spiegato Un sacco di volte Che non serve Non serve Avere Partire con le live Tu Youtube Se lo vuoi utilizzare Devi partire con i video E poi fai le live Twitch Se vuoi avere successo Devi prima cercare Di costruirti Una fanbase Su un altro social E poi te la sposti Su Twitch TikTok Potrebbe fare A caso tuo Per esempio Dove si potrebbe trovare Il tuo podcast Dovrebbe essere pubblicato Su Su Spotify Su Spotify Scuadretta bronze Cioè tu mi hai fatto perdere La partita Io non ci credo Mi sono ingrippato proprio Ma Tony perché giochi Ho avuto un grosso Di visualizzazione Dettanto odiato Per me Perché non Bannavo la gente Te lo dico io Vediamo stasera Io ho A tutte queste persone Che ho bannato Stasera Le ho bannate 3 su Twitch E 4 su Youtube No? Secondo Madonna che maglia di merda Secondo te No? Se Se non mi fossi messo A bannare queste persone Non avevo Adesso In questo momento 6 persone in più Che mi insultavano Tutti i giorni Ecco Fortuna che le ho bannate Questo è Il ragionamento Da parte mia Quindi per me Simone Avrebbe solo questo Che consiglio Tra queste persone Potrebbero Anche loro diventare Content di creator Scriver Di provarci Di provarci E basta Cioè Non c'è nulla Che oggi Ve lo impedisce Provateci Purtroppo Lo dico A tutti Sta diventando Per le nuove generazioni Il mondo televisivo 2.0 Quindi Paradossalmente Si vedono andare avanti Solo i bellocci E le belle ragazze E un peccato Perché la cosa bella Del web Era proprio La normalità Dei personaggi Che c'hanno sul web Tipo Guardi Un toni tubo E l'essere umano Più Tra virgolette Nella media Che ci sia Non sono Bruttissimo Non sono bellissimo Sono una via di mezzo Sono una persona Normalissima Che incontri per strada Che non ci fai Neanche caso Non è che sono Brandbeat Non è che sono Gafi Gli Fandozzi Per la serie Come ve lo spiego Cioè siamo tutte persone Se ci fai caso Sul web Di volti storici Tutte persone Di media Bellezza Cioè la bellezza Non ha influito Un cazzo di niente Sul successo Che uno potesse avere Anzi Paradossalmente Prima Se eri troppo Splendido Cioè Venivi anche preso Come un Non lo so Oggi invece Le nuove generazioni Al contrario Vedo I TikToker Che Escono fuori Sono solo Le ragazze carine I ragazzi carini Quindi Tutti Quelli un po' più bellini Che escono fuori E che diventano popolari Poi Vedo anche I personaggi Napoletani Che diventano popolari Su TikTok E dico Vabbè Dipende dalla generazione A cui parli We Tu mi stupi Fai una gara E ballo con me O bacino O culetto O tacata O tacata A te Al video Io perciò Tiktok Lo ho installato Ma il medico Di si installava Salvatore Coco Grazie mille Grazie mille Per l'abbonamento Benvenuto nella family Un bacione Stasera Che bello Tanti nuovi abbonati Per la prima volta Grazie di cuore È una bella Iniezione di fiducia Che mi date Grazie 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 a voi Che credete Nel mio lavoro I toni Come avanti a posto Di seguito Alle rapide nottorni Che ricordo Mario Poi ci portano Nel giorno Non è andato A modire Fatta Buon Dei salvato Non è come Mi sembra si chiamava Non lo so Se è ancora pubblicato C'è anche il rischio Che non è più pubblicato Guarda che ti dico Non mi ricordo Tonitubo Me ne dovrei chiamare Pure là Tonitubo Anche là La verità è che Bisogna trovare Un contenuto di nicchia Che porti quasi Esclusivamente tu Per portare qualcosa di nuovo Non è vero invece Secondo me La stai vedendo Allora Ragioniamo Ci sono due modi Per diventare Popolare oggi Cavalcare un trend È la cosa più facile Ok E per cavalcare il trend Significa praticamente Inserirti in un momento storico Giusto Trovarti al posto giusto A parlare dell'argomento giusto Che non è detto Che se lo fanno gli altri Non lo puoi fare pure tu Facci un esempio Oggi Un trend che va È quello delle slot E dei casino Mettiamo caso Che tu sei una persona Che Sei ricca 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 E c'è il vizio Delle slot E ti giochi Ogni mese 20.000 euro Alle slot Ma non ti pesano Perché guadagni 50.000 euro al mese No Dico per dire Quindi te lo puoi permettere Però ogni mese C'è sto vizietto Quindi La sera ti metti là E ti giochi Ti giochi alle slot Così Oggi È un periodo storico In cui Aprirti un canale Dedicato solo al gambling Quindi al gioco così Ti potrebbe portare Tanta utenza È fatto bene Quindi se Rispondi a questi requisiti Oggi Hai la possibilità Di diventare popolare Partendo da zero E cavalcando Questo filone Perché ti basterà Oggi mettere Un video Vinco Ho vinto 3.000 euro Ho vinto 5.000 euro Ho vinto 6.000 euro Che già Hai 40 video Consigliati Dove andare A finire dentro Questo per esempio Può essere Vedi cavalcare un trend Potrebbe essere Una soluzione giusta L'altra soluzione giusta Potrebbe essere Quella di inventare Un trend Però inventare un trend Gli esempi sono pochi Allora ti faccio capire Il primo esempio Che abbiamo visto Di inventare il trend È stato Youtube Fa cagare Su Youtube Italia Simone È stato il primo A portare un qualcosa Che non portava nessuno E È stato Stracondiviso È stato Straseguito Ha fatto dei numeri Youtube Fa cagare In pochissimi mesi Che nessuno Se ne aspettava Capisci Poi sullo stesso filone È nato Flame È nato Mr. Hyde Per dirti Sono nati Tanti personaggi Tentavano di fare La stessa cosa sua Però Alla fine Non hanno avuto Il successo suo Che si è inventato Il trend Anche se in realtà L'ha visto In America Eccetera Eccetera Ma comunque Stai prima A portare in Italia Ha avuto L'idea geniale Ha avuto L'idea Giusta Al momento giusto Quindi Quello è Vedi Avete l'idea Originale Che ti fa Far botto Non è facile Ragazzi Nulla è facile Sul web Nelle volte I percorsi Che possono Sembrare Semplici Magari uno Ci arriva A botta di culo Perché era predestinato O perché ragionava Fuori dagli schemi Cioè Voi Non pensate Che ragionare Sugli schemi Faccia bene Cioè Delle volte Devi ragionare Anche fuori dagli schemi Devi pensare Anche a cose Che gli altri Non pensano Cioè Quello è Non è così semplice Saluto Ciao Raff Il miglior tiktoker Antonio Sbancatore Lo seguo Lo conosco Lo seguo Cioè Non lo conosco di persona Lo conosco come Come Personaggio Lo seguo su Instagram Non lo seguo su Lo seguo su Instagram Sai perché? Lo vedi in un video Con Fius E andai a vedere Il profilo Instagram E guardai Nei suoi seguiti Vedi che mi seguiva Dissi Allora Dato che tu mi segui Ti seguo anche io Stai simpatico Ti seguo No Un bravo ragazzo Un bravo ragazzo Assolutamente Allora Ma senti ancora Gripa Proprio oggi Ho aperto Discord Ho trovato un messaggio Di Gripa Del 15 febbraio Che mi ha detto Ciao Toniturbo Esplodi Tipo Arrivati In un prossimo Casino Arriverà Bruna Arriverà Massimo Martedì Martedì Al massimo Puoi aspettare Ma arriva Arriva Non ti preoccupare Lo porteremo Il casì E no Il casì E canò Casì canò Boom baby Bye A casa cosa fai Toniturbo Che ne pensi Di BobboTV Secondo te Sono competenti Tutti e quattro Beh sono del settore Per forza Cioè Hanno giocato Tutte e quattro A calcio Chi meglio Di uno Che ha giocato A calcio Può parlare Di calcio No Secondo per forza Sono competenti Assolutamente Bobbo Bole Vieri È Una garanzia Bobbona Cioè Bobbo Vieri È un mito Non si discute Specialmente Per la mia generazione È proprio Un mito Un mito Anche Antonio Cassano Cioè Il gattonino Della barivecchia Michi Vendolo È simpatico E l'elea D'Anni Va bene Spettacolare Pure lui No Mi piace A BobboTV Allora Il discorso Sai qual è? Che io Non amo Seguire Tanto Parlato di calcio Solo quello Non lo amo Per esempio La BobboTV La trovo Interessantissima La guarderei Per milionate di ore Quando mettono L'ospite Quando fanno Quando mi sono visto L'intervista A Ronaldo Il fenomeno A Guardiola Cioè Quando mettono L'ospite È spettacolare Perché la cosa Perché sanno Intervistare Cioè Cassano È bravissimo A intervistare Vieri pure Mi vendola Dani Sono bravi Fanno le domande Giuste Chiedono le cose Le cose Che la gente Vuole sapere Veramente Credimi Quando hanno L'ospite Per me BobboTV Un sabato Però Quando hanno L'argomento Di calcio L'argomento Che mi ha da piacere Se no Non esiste Capito Hai sentito A breve Uscirà L'intervista Delle Iene Su Povero Gabbiano Intervistante Due Palermitani E poi Gianni Celeste Ma te lo sai Che non si chiama Povero Che bella canzone Che ne pensi Si chiama Tu come me Si no Vabbè Ma i due Palermitani Duracell E Franco Gioia Sono dei simpaticissimi Sono dei simpaticoni Assurdo Sono Sono veramente Sono veramente Dei personaggi Che portano Allegria Persone Umili Simpatiche Mi piace Mi piacciono Mi piacciono Poi passate Queste sono le persone Che preferisco Che preferisco Vedere Su Sul web Personaggi come questi E' vero pure che Il problema Allora Uno potrebbe creare Un po' di rosico Perché Certe persone Grazie a TikTok Acquisiscono Una popolarità Talmente gigante Talmente grande Che Con un telefono Sono arrivati a tutti Questa è una cosa Che fa rosicare Parecchio Chi sta nel settore Chi magari invece Sai Lavora sui format Lavora sull'editing Lavora su montaggio Lavora su Tante cose No Poi pensi Che arriva uno Si mette con il cellulare In mano E raggiunge Una popolarità Enorme Questo fa un po' rosicare Però Detto ciò Io per queste cose Ormai non ci rosico più Un tempo ci rosicavo Attenzione Io sono stato Uno dei primi rosiconi Quando ho visto il fenomeno YouTube fa cacare Sono stato Il primo rosicone Io feci il video Io odio YouTube fa cacare Sapete perché In realtà Non è che Allora Lo si cavo Giustamente Perché Vedevo un canale Che diceva Diceva delle cose Ovvie Perché erano Delle cose Ovvie Cioè I me No che era là Gli scherzi di coppia Fanno lo scherzo preparato Ma va Cioè facevi ma va Cioè questi C'hanno un canale Che si chiama Scherzi di coppia Secondo te Cioè come fanno A non A non Sapere Ok Mi sta facendo Lo scherzo Ok Mi sta facendo Lo scherzo C'hanno un canale YouTube Da 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 Quattro anni Insieme Che fanno Gli scherzi Lo sapranno No Ragionavo io Ne ho modo di ragionare Dicevo Quindi Dici delle cose Assurde Delle cose Ovvie E la gente Ti porta in cielo Come il messia Ragazzi Ma la finite Con sto Bannami Bannatemi Bannami Bannatemi Cioè è sempre lo stesso Bimbo minchia Di merda E basta Però Hai rotto il cazzo Veramente Ma fatti una vita Stasera Vatti a vedere Qualc'altra cosa E che palle Cioè Otto a cavo Questo Questo vedete Quando Quando avete Quando mi mettete Contro un bimbo minchia Del genere Per fortuna Vi hanno tolto I dislike Guardate questo Quanti account C'ha C'ha uno del genere Se ti diventa Haters Sono 12 15 Dislike A ogni video Dei Questi Perché Proprio La C'è Ma Quanti account Di Google Tino Cioè Ma Mi vergognerei Cioè Mi Sei Mi Vengo Due Già Mi Sendo Una Persona Fuori Dal Comune Di Quindi Non Due Di Accanto Perché Sare Connetto Anitub Un Altro Un Altro Invece Il Secondo Accanto Che Non Ho Mai Avviato Mannaggia Tutta Ma Quel Kabilaim Che Sta Spopolando Ma Kabilaim Vedi Un Altro Esempio Kabilaim È Un Esempio Portato Più A Livello Internazionale Capi Kabilaim È Un Esempio Di Un Personaggio Già Più Internazionale E Ragazzi Chi ne Penso Penso Che Purtroppo Io Spero Spero Una Cosa Dentro Di Me Che Queste Persone Che Riescono A Prendere Così Tanta Popolarità Si Dimostrano Essere Delle Persone Di Grande Talento Ma Sai Perché Me Lo Aguro Perché Ne Va Ben Etta La Categoria Perché Ti Spiego C'è Troppo Questa Cosa Che Si Vuol Far Uscire Fuori Dal Web Solo Chi Gli Fa Comodo E Solo In Una Certa Veste Capi A Me Sta Cosa Non Mi Piace Cioè Si Cerca Sempre Di Far Passare Le Persone Che Arrivano Dal Web Come De Deficienti Che Non Sanno Fa Niente Che Fanno I Pagliacci E Che Divendano Famosi Perché La Gente Ama Vedere Le Cose Fatte Male Il Trash E Cetera Ma Non È Senza Volere Divendano Portabandiera Di Una Categoria L'unica Curio Che Mi Faccio E Che Almeno Siano In Grado Di Portare Avanti Sta Bandiera Solo Questo Toglio Dopo Fatte Le Che Cascido Siamo Nella Fase Due Della Live Voglio Capire La Fase Uno Dove Magari C'è Più Che Viene A Vedi Ma Nella Fase Due Che Siamo Un Po Più No Tra Di Tony Come La Vedi La Partita Domenica Penso Con Dazzone Si Vede Penso Penso Poi Mi Informo Se Sta Su Sky Prima Fina Non Credo Chi In Vici Non La Fa Vedere Non Avete Il Pack Domani Escono I Futter Bad Dici Non Conviene Aprire Lo Staseno Potre Fare 25 81 Piume Essendo Che Sei Un Vero Portatore Di Conte Così In realtà Ce l'ho Fatto Il 25 81 Più Sapevo Che Facevi La Battuta Che Battuta Allora Ciao Tstwitch Buonasera Grazie Per i Cheers Oltre a FIFA Che Ti Piace Va Come Videogiochi Io Gioco Magic Gioco Magic Gioco Un Pochino C'è Un Gioco Sul Pass Di Xbox Che Mi Piace Un Bot Che Si Chiama Descender Sono Bravino Con La Bicicletta Poi Gioco Geass Gioco Halo Gioco COD Non Più Prima Un Po Lo Giocavo Adesso Non Più Ciò Diciamo Sti Giochi Qua Che Mi Ok Vediamo Un Bambam Vediamo Un Bambam Squadra Di Merda Di Prego Una Squadra Irgente Fammi vedere Fammi controllare Che Aspetto Obiettivi Uno Voglio Che L'ho Fatto Uuuh Uuuh Me ne andavo A fare Un'altra Me ne devo Andare A fare Gioca 5 Partide Spirato Il Vero Direttato Super Schirando Matteo Per ottenere Mane C'è Ho preso A questo Tanto Che L'ho Preso Vabbo Vedi Tonio E Come Sicchiate Sissi Che Tu Già Ma Tu Già Ti Chiamo Tic Toc C'è Nel Senso Già Hai Dato Prova Del Del Tuo Possibile Del I soldi Virtuali Così Meno Per Tante Slot Machine Pietro Esposito Non Parti Sospendere Pure Tu Allora Obiettivi Traguardi E Qua Sì 5 Di 6 Ok Ne Manca Una Oggi Stanno I Coglioni Già 3 Per Nicolò Te L'ho Dedica A Session No Ti Seguro Da 20 Iscritti Grazie Chico Viene In Già Ti Continuano A Fare Accanto Ma Stanno Sì Do Minari A Stasena Ma La Cende Non Sta Bene Veramente Gio C'è Chi Si Fa Un Accanto Su Accanto Su Accanto Allora Tutti Anni Sembo L'accanto A Casa Si No Ma Ho Capito Perché Google C'ha L'agord Di Utenti Al Mondo Unici Che Guardano La Piattaforma Basta Uno Così Che Ti Fa Gli 300 Mila Persona Fare Risetti A Pasqua D'Abruzzo Esagerato Doni Ora Tra Voglia Fa Capito Come Girano Un sacco Di Scuole D'Argento Tra Voglia Fa Capito Quindi Mono Devo Fa Sta Cosa Perché Scusa Ma È Ma Ma È Non Fat Non Mi C'è Ma Una Cosa Quindi Ma Io Ho LED 83 Di Trovo Eccolo Vai Con LED 83 E Non Ti 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 Non Ti 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 Stai Che Sto Antipatico Ma Non Mi Guardare Mi Da Le Visualizzazioni Poi Ma Che Gia Ancora Di Più Capito L'errore Lo Fai Tu Non Io Se Tu Lo Vuoi Far Morire Lo Devi Mettere Nel Dimenticatorio Non Gli Devi Dare Importanza Invece Tu Mi Da Importanza E Allora Allora Vedi Che Ti Credi Di Essere Normale Che Me Lo Credo C'ho Uno Come Te Che Mi Odia E Mi Viene A Vedere Perché Sono Troppo Belle Importante Schiatta Dentro Purtroppo Non Attaccano Più Voglio Chieders A me Non Fanno Niente Cioè Voi Non Dovete Capire Ormai Troppi Anni Di Web C'è Io Non Vado A Dormire Se La Notte Qualcuno Non Mi Ha Cura Di Morire C'è Capito Come Funziona C'è Dico Ma Come Oggi Nessuno Mi Ha Cura Di Morire Come Vado A Dormire Come Farò A Prendere Sonno Questa Notte Come Faccio A Mettere La Testa Sul Cuscino Quindi Non Mi Fate Né Caldo Né Fido Ma Quando Ti Pensi Che C'è Purtroppo Sì Purtroppo Abbiamo Ma In realtà Non Sono Tanti È Un Ragazzino Che Ho Bannato Prima Che Sta Facendo 1000 Account Che Poi E Talmente Fesso Che Vi Deve Pure Iscrivere Al Canale Per Iscrivere In Chat Capito Qual E La Cosa Bella Perché Io C'ho La Chat In Modalità Solo Iscritti Ma Se Metto Se Lo Voglio Stoppare C'è Un Modo Mettiamo La Chat In Modalità Solo Iscritti Però Solo Iscritti Da Un'ora A Questa Parte Che Possono Scrivere E Certo Che Me Lo Ricordo Faresti Un Video Con GRIPA Ma Fai Tutto Con GRIPA Poi Per Favore Rispondi Permettere Che La Live Si Vede Anche Tra Sessanta No Purtroppo Il Guaio Di Essere Affiliato Che Non Vuoi Mettere La Qualità Mentre Invece Se Sei Partner Si Dopo Viene Su E Non Lo Sento Il Buon Martino Cripa Olè Ma Dove Il Minitico Sabino Edificante Purtroppo Sabino Edificante Lavora La Sera Voglio Ha Preso Un Lavoro Dove Lavora La Sera E Quindi Non Ci Sta Mai Mi Spiace Un Botto Questo Si Ha Reso Conto Che La Miglior Cosa Era Quella Di Cambiare Ma Pure Perché Tanto Sfotti Una Volta Sfotti Due Sfotti Tre La Cosa Importante Che Non Cambia Il Mio Umore Perché Quello Il Di Ore Ha Visto Che Quello Scopo Non Ci È Arrivato Ha Detto Perso Se Scrive Dopo Un'ora Viene Su YouTube Ah Dici Tu Come Twitch Può Essere No Boom Penso Che Se Ne Sia Andata Bello Bele Se Di Seconda Avevi Regalato La Xbox A Tuo Nipote E Video Di Pasqua Ma Tu Sai Che Quest'anno Gli ho Degalato La Playstation A Natale Gli ho Degalato La Mia PS4 Ho Detto Prenditela Tu Che Sto Natale Ho Detto La Voglio Che La Di Tu Dato Che Lui La Voleva Gli Amici Ce L'avevano La Playstation 4 Lui Era L'unico Che Non Ce L'aveva Detto Gli La Playstation 4 Ad Dovevo Comprarla Comprarla Era un problema Dove Bello Cantona Gaetano A scuola Pietro Tu Soffri Di Bipolarismo Tu Mendo Messaggi Sei Grande Ti Stim Tu Voglio Bene Sei Il Mio Italo Poi Bello E Buone Te Esce E Prendi Per Il Culo Quindi Soffri Di Bipolarismo Amico Mio Io Sto Leggendo Parecchio I Messaggi Ci Vede Una Persona Molto Bipolare Oh Bello Prendi Più Forte Sto Cantona Ronaldo Baby Cantona Ma Tu Prendi Maldini Moment No Non Credo Ma Mezzo Che Mi Porto Maldini Mid Fino A fine Gioco Alla Fine Va Bene Maldini Il Piccolo Gaetano Adesso Conte Mi A Saluto Ricordo Ciao Fabriè In Questo Momento Gaetano Va Per I 12 Fa Da 12 Anni A Maggio A fine Maggio 12 Anni Ti Ricordo Quando Acchiappavo Quell'accanto Buggato In Finito Sì Ecco Ho già Risposto Prima Sì Sì Mi Stai Ascoltando Ho già Già Ti Avevo Risposto Prima No Tonic Cannavaro Momento Dalle Swap È Consigliabile Secondo Te Guarda In Questo Momento Sì Però Per Quando Lo Puoi Fare No Cioè In Questo Momento Sì Poi Dipende Dipende Pure Da Che Tipo Di Difensore Ti Piace Quindi Ci Sta Tonni Troppe Depe Quanti Depe In Questo Mondo Non Sarò Un Globoshart Né Tanto Non Depe Perché Tutti I Giorni Guardo A Chi Tonni Tubbo Sei Anche Un Podcast Tonni Mi Consigli Di Prendere Gullit Prime O Virap Prime Vicino A Cantetoti Gullit Prime O Cantetoti Aspetta Gullit Premo Viraprime Vicino A Cantetoti Allora Guarda Il Più Bello Sarebbe Gullit Ma Il Più Funzionale Che Virap Vicino A Cantet Il Più Bello Non Te lo Nascondo Sarebbe Assolutamente Assolutamente Bullit Però Con Viraprime C'è Più Funzionalità Perché Poi Viraprime La Giusta Compensazione A Cantet Immagina Palla Alta Rimpiata Dal Esce Anche Il Bullit Non È Basso Però Direi Meglio Sono Due Exabbonato Su Youtube Mi Chiamavo Stefano 92 CT Fanpage Ti Ricordi Grande Stefano 92 Come stai Da buona Moletano Ti comprerai Lorenzo No Perché Sarà Aiutato No Non me lo Comprerò Perché Non Ho La Serie A Non Gio Con La Serie A Ah Mi Ricordi Di Bloccare Ascensore Scelto Non Ricordo Non Meglio Kim Ben Base O De Sellic Kim Ben Base Tutta La Vita Miglior Difensore Centrale Del Videogioco Kim Ben Base 83 Di Meglio Non Esiste Insuperabile Di Nome Di Fatto Insuperabile Il Signor Kim Ben 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 83 Di Meglio Non Sceva Giù Ma Tu Se Mi Dicevi Kim Ben 83 O Marchino Stoti Kim Ben 83 Se Mi Dicevi Kim Ben 83 O Paolino Maldini Moment Prime Paolino Maldini Moment Prime È L'unico Caso Però Per i Resti Tutto Quanti Kim Ben Tony Che trovate Nei pacchi Ho trovato Eusebio Fernando Khan Però L'altro Eusebio Non Eusebio Base Tony Visto che Sono ormai Tre secoli Di fila Che c'è Una rivoluzione Secondo ci sarà Una nuova rivoluzione Secondo ci sarà Quale paese Non in Italia No Una rivoluzione No No Ci manca Sulla rivoluzione Lo sa Pandemia Ok Guerra Ok Rivoluzione No Ancora No Guarda Io da questo secolo Mi aspetto Grandi cose Sinceramente Mi aspetto Grandi cose Mi aspetto Mi aspetto Un bel incontro Con gli alieni Che gli alieni Si palesano Quindi mi aspetto Assolutamente I dischi volanti Che arrivano Su tutte le città Del mondo Mi aspetto Veramente Oggi giorno Con l'assurdità Delle notizie Che viviamo Chissà come La vivremo Una notizia Di ci sono I dischi volanti Ovunque Sopra La casa bianca Sopra il vaticano Sopra una tour Eiffel No Tipo I dischi volanti Così Cioè Come la vivremo Una notizia Del genere Cioè E va bene Ci mancava Solo chiesta Cioè Non lo so Non lo so Sarebbe Sarebbe Figa Come cosa Oggi Mi sono rivisto Il bagno Di latte Quei c'è Di credo Nella vasca Ma dove Avevo quel video Veramente epico In realtà Non ci potevo credere Credo E mi serve Ciao Crash Tony ma quindi Ti sposto ufficialmente Qui no Non mi sposto Da nessuna parte Criumb Sono in live Contemporanea Sia su youtube Che su twitch Farò sempre così Tony ma cosciate Ti senti Sì Tutto bene Che ne pensi Di USA Nel conflitto Russia-Ucraina Beh Che ne penso Che Se Se intervengono È meglio pure Che non fanno Neanche la conferenza stampa Ma che Fanno parti Direttamente Missione nucleare Sulla Russia Cioè Magari Ti prendono Di sorpresa No Scherzi A parte Spero che Si risolva Si risolva In maniera democratica Questa cosa E Quanto prima Non si può accettare Una guerra Nel 2022 Un amico Ha fatto L'icon prime Ha trovato Roberto Carlos E work or lose Per te Per me work Per me win Per tutta la vita Roberto Carlos Sei uno dei migliori Terzini Assolutamente Prime Pure Un bel cioci icon Con 900k Eh oddio Cioci Roberto Baggio Prime Secondo me Ce la fai Ti fai un cioci Che ti diverti Magdettamente Oppure Gianfrancozola Gianfrancozola Oppure Del Piero 92 Io andrei sugli italiani Un bel cioci italiano Tanta roba Del Piero Prime Bello proprio Baggio Zola oddio Zola forse Potrebbe fare Un po' di più L'attiti Che l'attiti Però Baggio Del Piero Scegli uno dei due Oppure se proprio Vuoi uno straniero Butraghegno Vamo Potrebbe andare bene A forcerci Emilietto Butraghegno Cacà Quanto costa Cacà E' buono Sì Cacà E' valido Però Secondo me Doveva essere fatto Molto meglio C'è Cacà Meritava Delle stats Molto più Importanti Di quelle che ha Maron Meritava Delle stats Molto più Alte Hai visto L'Ucraina Zelensky Vuole Che sia fatta Una no Flayzone In Ucraina Ma la dell'America Hanno detto No Perché tutti Chiedono No All'aiuto Dell'Ucraina Contro la Russia Non vedono Morti Perché non posso Intervenire In Gio Ma quello è il problema Purtroppo Non è questione Di non vedere I morti È questione Che se si mettono In mezzo L'America E le nazioni Europee Automaticamente Stiamo facendo Noi Guerra Sarà la Russia E la Russia E la Russia Ha già detto Che se dovesse Fare guerra Contro di noi Automaticamente Sarebbe Sarebbe una Quella nucleare Contratto con la Mediaset Di Zio Silvio Bravo Tom Tonio Un milione Un attaccante Buono Raul Scendo Scendo Di Ben Ucraina Però No Come Meno Stimpe su Youtube Giacomo Sono in contemporanea Sei su Youtube Che su Twitch Poi ti voglio Bene Mi sei mancato Grazie Andrea Spero Che non Mancherai Tu Alla Prossima Volta Allora Perché Io Ci sono Sempre Tutte Le Sere Quindi Si C'è Qualcuno Che Manche Sei Tu Ben Adoni Sono Soldato 59 Di Twitch Sto Palleggiando Un po Tra Twitch C'è tu Grande Soldato Giuse Di Qua Giuse Di La Bravissimo Tony Come Ma Il tuo Canale Sceso Di Hype Il mio Canale Non È Sceso Di Hype Caro Mi Di 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 Ci Sono Delle intro Delle Live Che voi Non Avete Proprio Idea Una Delle intro Più Belle Che Ho Mai Fatto Delle Live E Stato Quando Attaccato La Live Per Sbaglio Stato In Mutante Praticamente Io Registro I Video Con Praticamente Io Faccio Faccio Le live Con lo stesso Cioè Registro Con lo stesso Programma Con cui Faccio Le live E Ero Convinto Di Aver Cliccato Abbia Registrazione No E Invece Di Aver Cliccato Abbia Registrazione Avevo Cliccato Abbia Streaming Che È Il Tastino Sopra Clicco Abbia Streaming E Faccio Il Mio Video Registro Il Video La Cente Non Capiva Un Cazzo Il Live Ma Io Facevo Il Video Poi Pensa Che A Un Certo Punto Facevo Pure No Spesso Stavate Rifacciamo La Taglia Io Parlavo Con Gabriele Che All'epoca Facevi I Vide Gabriele Gabriele Taglia Stavate Infatti Divenne Pure Me Gabriele Taglia Ok Facciamo Finisco Il Video Finisco Mi Mi Alzo E Sto In Mutande E Praticamente Sto In Mutande Mi Giro Me Ne Vado Nella Porta Di Là Che Vado A Pisciare Torno E Inizio A Vedere Il Telefonino Che Suona All'impazzata E Mi Ricordo All'epoca Mi Chiamo Tony Game PC Il Grandissimo Antonio Lucernino Ragazzo Che Mi Conosce Da Che Tenevo 50 Iscritti E And Ti Pannano E Io Subito Ma Come Sto In Live Può Buttare Giù La Live Subito O Di Mi Mi Avete Visto Come Vi Facevi I Capiti Come Alan Poesia Bellissimo Il Video La Buona Sera Di Di Noi Di Twitch O Quando Vi Dicavo Fu Della Finestra Non Capiti Chi Era Che Facevano Casino Comunque Ho Fatto I Tre Cosi Però Cosi Come Si Chiamano Per I Premi Però C'è Un'altra Cosa Che Potrei Fare Sempre Oggi Che È Questo Obiettivo Qua C'è Un Obiettivo Se In Amichevoli FUT Questo Lo Farò Se In Fornici Se Assist In Amichevoli FUT Lounge Agento Ah Gli Assist Su Cross Che Palle Qual Era Quello Là Che Stavo Facendo Non Era Questo Eh Questo Qua Segna Dieci Gol Con Un Giocatore Argento Della Settimana Squad Battle A Level Desperto Superiore Rivals E Ce l'ho Leaf Devo Solamente Farci Tre Gol E Mi Sblocco Pure Un Mega Pacchetto Raro Vedi Questa È Un'altra Cosa Che Potremmo Fare Così Magari Questi Qua Ce L'apriamo Noi Andiamo A Farsi Tre Goll Con Un Giocatore Argento If Tanto Ce l'ho Non Problema Ah Quanto È Bello Guardate Questa Squadra Quanto È Bello Il Difensore A Porta Il Portiere In Difesa L'AS In Difesa I Terzini Messi Al Contrario L'attaccante A Centrocampo Il Difensore Centrale In Atta C'è Questa È La Squadra Che Vorrei Nella Squadra Che Vorrei Gioca Rodrigo Taddei Seleziona Rosa Ergint Ergint Allora Devo 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 Fare Goal Con Leaf Windy Metto Lui E Nella Rosa Che vorrei Gioca Rodrigo Taddei E Metto Lui Così Ce ne Entrambi Attaccanti Vai Non Sbaglio Mai Tony Buono Sto Robinson Difensore Con 90 Velocità Sì Saluta cicciano Ciao Morrone Avere un calo di spectra ti ha segnato Sì In positivo Perché ho iniziato ad apprezzare Le piccole cose Quindi Sono molto contento di averlo avuto Tony Assurdo Quei ragazzi diffidenti Anche quando regali un bonus gratis Per casino No Già Numero futuro Sinceramente Sinceramente A me Parla Io devo Io devo parlare Alle persone che mi vogliono bene Di persone che mi vogliono criticare Purtroppo ne tengo troppe attorno Perché è facile criticarmi È bello criticarmi Per molti Vi dico una cosa Tranquillamente Le persone Sul web Non lo so perché Mi riescono Mi vedono sempre Come il cattivo Della situazione Sempre come quello Da dover Cioè non lo so Quello che è stronzo E che è cattivo Non capisco perché Do questa impressione Alle persone Però Boh Ogni cosa Che dico io È sbagliata Ogni cosa Che faccio io La fai per interesse La fai per questa La fai per quell'altra Però io non ho mai dato modo Di Cioè di pensare Questo alle persone Che mi seguono Semplicemente È un fatto di Diciamo Invidia Anche Ma non invidia Che chissà che invidia Ne Invidia Del Del Non volermi più Ciao Ma guarda Il guaio è quello Io sono stato Posso dirti Che Non so Quanti Quanti retroscena Già conosco Del mondo Slotte e casinò Che tu non hai idea Te lo dico chiaramente Jenny Perché sei ragazzo Intelligente Te lo dico Senza peri Sulla lingua Conosco Tanti di quei Retroscena Che potrei Tranquillamente Sputtanare il mondo Gente che Ho capito Come fanno A guadagnare i soldi Che tipo di lavori Fanno Che cosa Si cosa muovono Però mi sto nel mio Sono nel mio cibo Non rompo il cazzo a nessuno Quando faccio una cosa Io la faccio A mio modo Io ti posso dire Che quelli del sito Mi avevano detto Mi avevano detto E evita di dire Che ti diamo I bonus Ti diamo Delle percentuali Sugli account Che si registrano E io Tra l'ho risposto Ho detto E secondo te Uno che mi segue Pensa che io Metto il link In descrizione Iscrivetevi a quel sito Perché mi fa piacere Vederlo giocare Su quel sito Cioè Talmente stupido Non ci arriva Che io Ho qualche 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 connessione Con voi Meglio che glielo Dico subito Guadù Io ho la connessione Con il sito Sto in partnership Con il sito E infatti Grazie alla partnership Con il sito Sono riuscito Ad avere questo bonus Di 1000 euro Senza deposito Perché Io gli ho chiesto Ho detto Guarda Se vogliamo lavorare bene Devi fare in modo Che le persone Abiano un vantaggio Qual è il vantaggio Più grande Che potete offrire Abbiamo parlato Con La persona Che all'interno Dell'azienda Sì Perché questa azienda È di Napoli Quindi ci sono andato Di persona Da vincitu.com Eh .t Io da vincitu Ci sono andato Di persona E ho parlato Con il manager Dei bonus E insieme Abbiamo studiato La strategia Per cercare Di far iscrivere Quante più persone Possibili E abbiamo raggiunto Questa strategia Del 1000 euro Senza deposito Però Giocato in fan bonus Perché giustamente Non può non regalare 1000 euro A ogni persona Che arriva Cioè Poi che non è Senza deposito Neanche E allora giustamente C'è questa Questa serie Di gioco Da fare Che tu Li prendi La prima volta Poi devi Riscattarli Eccetera Io vi dico Ieri il mio amico Mi ha mandato la foto 500 euro Se hai riscattato Cioè hai riscattato 200 euro Con i 200 euro E salita 500 Se le prileva di pure Non ci riescono tutti Io personalmente Non ci sono riuscito Ve lo dico chiaramente Io non ci sono riuscito A sbloccare Il fan bonus Perdo prima Però C'è gente che c'è riuscita Senza problemi proprio E manco E manco va bene Bella Dani Si è richiesto Ne mi tiktok Dani Un bagno La contigenza Nr 1 Grazie Dani Ci ho detto bene Sì Matteo Tutto bene E quindi Il discorso Capito è questo Cioè alla fine Le persone vogliono Sempre vedere qualcosa Di malvagio E di male In realtà Fare le cose In maniera troppo Trasparente La gente va in crisi Perché non c'è abituata Sul web Meglio quelli che ti dicono Ragazzi Se volete sapere di più Su questa slot Passate nel comparatore Dillo però Che c'è gli accordi Con quei simi Che quando mi scrivo Tramite quei link C'è Ti arrivano delle fi No Perché non lo dici Che ci stai male È il tuo lavoro Però nessuno Ve lo spaccia così L'unico stronzo Che ve l'ha detto Che si prende le fi Se vi iscrivete So io Ma perché Perché non tengo niente Da nascondere Ci va con le tasse Beh Ma c'è il fatturo A voi niente Mi cambia A me mi cambia Se vi iscrivete Cioè ovvio E se vi iscrivete Al sito Tramite il mio link A me mi cambia A voi non vuoi cambiare A me si Quindi se vi fa piacere Mi iscrivete Tu prima di giocare O lei nelle slot Giocavi nelle slot Le tabbaccherie Eccetera In realtà Io giocavo In video poker E là Ho preso la malattia Perché Nei video poker Abbiamo scoperto Dei bug C'erano Nei vecchi video poker Parliamo Ti sto parlando Di primi anni 2000 Che c'erano I famosi video poker C'erano dei bug I bug I bug Erano pochi E semplici Praticamente Bastava Bastava Mettere Mettere le mani Cioè tu mettevi Per esempio Mettevi Che ne so No l'euro non c'era Cioè mettevi Mille lire dentro Per dire 2000 lire dentro Ti giocavi le mani Sempre a perdere Sempre a perdere Se la macchina Stava in pagamento Dopo 5 6 7 8 Volte Che tu Giocavi a perdere Quindi che ti bloccavi Le uscite sbagliate Di proposito No Esempio Ti dava una coppia servita Te la levavi la coppia E ti bloccavi Tutti gli altri nulli Ti dava Una scala Dovevi cambiare Solo un simbolo Tu quel simbolo Tu quel simbolo te lo tenevi E perdevi apposta A quel punto A quel punto Arrivava a un certo punto Che lui ti cacciava Il pokerissimo Si chiamava Cioè praticamente Ti dava il poker Col jolly Si chiamava pokerissimo Quindi facevi 5 Di un unico tipo E prendevi di base Quando ti facevi Il primo pokerissimo Da lì Potevi alzare Che c'erano pagate Che facevi subito dopo Capi? Con quei soldi Del pokerissimo Potevi alzare E quindi noi che facevamo Con una base di 20-30 mila lire Andavamo a provare Le macchinette così E solitamente Acchiappavi sempre Quella labbona Che te lo cacciava E quando acchiappavi Quella labbona Ti ci lavoravi sopra E te le portavi Le 300-400 mila lire A casa E quindi facevamo I soldi Con quella cosa Quando poi da lì Iniziano le prime Slot machine Ci iniziano I primi trucchetti Il famoso trucchetto Della cassetta La cassetta sopra La cassetta sotto Tutte queste cose qua Però già là Si perdeva più facilmente Con le prime Slot machine E poi Niente Ora ormai I sistemi di sicurezza Sono assurdi Quindi ora È impensabile Ora trucchetti Sulle slot Non ce ne stanno più Addirittura Una volta C'era L'MP Cioè Quello però Si diceva Che ti facevano i tumori Cioè L'MP Era proprio Illegale Totalmente È un È un Un raggio Che usano i militari Una sorta di Di frequenza Che usano i militari Che disattiva Tutte Tutte le cose Meccaniche Cioè Elettriche Tutti i conduttori Elettrici Quindi tu Praticamente Che facevi Andare vicino Alla slot Questo coso Cliccavi Senza Nessuna Giocata Ti si aprivano i cassetti E ti buttava giù Tutte le monete Che teneva quella slot Dentro Tutte Cioè Mi sembra che là Si può vincere massimo Fino a 100 euro No Quella te le buttava fuori tutte Tutto quello che teneva Ti apriva il cassetto E te lo buttava fuori Però lì Non stavi vincendo Con un trucco La stavi rubando Che è diverso proprio Infatti Sta cosa Ce la proposero Che ce lo potevano vendere A 2000 euro Questo coso E dicono No Cioè Che si tratta di rubare Se ci scoprono Non siamo andati a rubare We Anonymous Cheers Grazie mille Grazie mille Di cuore Grazie per i cheers Un bacione grande Grande ad Anonymous Grazie mille Veramente Gentilissimo Ma eh Arrivati che tutti Tornando dal lavoro Eccetera Siamo cresciuti Bravo Tom Hai detto Bad Ormai È quello Tony ci metti Il controller Per capire i tasti Che schiacci Si in realtà Ce l'ho già Il controller Da schermo Devo solamente Fare così Devo mettermi In un'altra parte Devo mettermi di qua Così vedete il controller Vedi Ehm Tony io vado Ci vediamo domani Ciao Pietro Ma è c'è un grudiato Tony ma se si facesse Una sfida spettacolare Gaetano contro Grisciane Al campetto Ovviamente Quando si può fare Ah quello Sarebbe divertente Devo vedere Maggio C'è un missile che per sbaglio Un missile che colpisce per sbaglio Il peso della NATO Non può mai succedere Giovanni Il missile per sbaglio Non colpisce Non esiste Che il missile colpisce per sbaglio E il fatto di chiudere il gas Sicuramente potrebbe essere Una protesta della Russia Per le sanzioni Questo sicuro Questo sicuramente potrebbe accadere Questo si Ma poi quando io andavo in Spagna Nelle esatte slot Le slot che ci sono all'estero Non hanno proprio a che fare Con quelli italiani E tutta un'altra storia Io andai a giocare A Monte Carlo Madonna A Monte Carlo Raga Mi è successa La cosa più Più assurda del mondo La cosa che c'è Allora Video slot Ok Non la conosco Mai vista Una tema oceano Tipo la ocean No Che Che i delfini Conchiglie Sticca cacca Ci metto dentro 20 euro Inizio a spinnare A 2 euro a tiro Così Faccio un po' di vincite Giro Rigiro 30 euro 20 euro 30 euro 10 euro 20 euro A un certo punto A un certo punto Simboli mai visti Mi calano sopra La jackpot 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 5 linee Di jackpot Così dal nulla La macchina Che inizia a suonare In un modo allucinante Sa pitch Tutta quando Inizia a suonare E praticamente Mi cambia schermata E mi esce una schermata Con tutti Sti Con tutti Sti quadranti Tipo Vado 1 Vado 2 Vado 3 No Con i jackpot Progressivi Che escono Esce il jackpot E non voglio una Esce il jackpot E mezzo milione Esce il jackpot Di 200 euro Esce il jackpot Di 1000 euro Esce il secondo jackpot Di un milione Esce il secondo jackpot Di mezzo milione Quindi In teoria Mi bastava Il terzo rigido Di quadrettino Di uno dei due Non si poteva perdere Era garantito Che dovevi vincere uno Quindi Ogni giro Girava qualcosa Era ogni giro Ne aggiungeva uno Così funzionava Non era Tipo vado 1 Vado 2 Vado 3 Però era simile A quello Comunque Per non portarvela Per le lunghe Gira un'altra volta Del 200 E gira un'altra volta Del 200 C'è la macchinetta Che si è appicciata Per un bonus Per un po' Il jackpot Il jackpot Progressivo Che non era Di un milione In realtà Era tipo Di un milione E 36 mila euro Tipo così No C'è Tu scena i due Sulla slot Scena i due E tu bastava Che girava Quell'altro Tengo cambiato La vita Nel casino Di Monte Carlo Quello centrale In piazza Quindi tu immagina Cioè dici Ho vinto Un milione Di euro Però al casino Di Monte Carlo Ho purgito A quello da mezzo Un milione Pur era tanta roba Però Mi hai scelto Che il 200 E presi Le 200 euro E vinsi Comunque Però hai capito Che rottura Di coglioni Dire io ho vinto Un jackpot al casino Di Monte Carlo Ci vinto 200 euro Manneggio Gesù Almeno il 1000 euro Fammelo prendere Mi ci ripagavo La vacanza No Per la serie Vincevo il 1000 euro Dicevo Abbo sta vacanza Quanta me l'ho speso Me ne sono fatti Di qua E poi un'altra volta Andai giocare al casino A Nizza Quell'anno E là pure vinsi 450 euro Tipo una cosa del genere Sempre i slot Che non conoscevo Tutti i slot assurde Non Cioè io cercavo Sai le più famose La book of fraud Queste qua Dico da Almeno qualcosina Ci capiscono La book of fraud Queste qua Tutti i slot strane Tutto a tema Dei Alien Delfine Rose Scrappiamo Cazzo C'è D'abbè Va Ma al casino di Menezzi Saremo Come Torino in Bello Sei mai andato No mai Io gli unici casino Dove sono andato Sono stato Sono stato Quello di Monte Carlo E questo di Nizza Non Poi non sono andato mai Nessun'altra parte Al casino Mai Ci sono mai andato Diciamo che Oggi ormai Allora Va partendo dal fatto Che il casino E come lo intendo io È sprecato Proprio che ci vado Perché io sono Sono uno di quelli Che non amo giocare Alla roulette Non amo giocare A blackjack Non amo giocare Ai giochi da tavolo Non amo giocare Ai giochi di carte Quindi Vado in un Qualsiasi casino Ma vado a perdere tempo Cioè capito Eh Vado a perdere tempo Grande gente Cioè vado a perdere tempo Nel casino Perché potrei tranquillamente Andare alla sala slot Per la stessa cosa Però Non ci vado Alle sale slot Per due motivi principali Uno Che non mi piace L'ambiente Perché nelle sale slot Oggi Almeno quelle Che vedo io In provincia La gente Che bestemmia Che praticamente Piange Che ha perso i soldi Che ha sondossi Cioè vedi La gente proprio Rovinata dal gioco Ti fa Ti fa quella cosa Di dire Ma io Sono venuto qua Perché Mi voglio bruciare A 100 euro Che mi posso permettere Capito Cioè io Per dirti Non gioco Quello che non mi posso permettere Allora Semmo Un periodo Devo stare fermo Sto fermo Infatti vedete Perché il casino online Ve lo porto due volte a settimana Perché oggi Non ho quel budget Per poter giocare così tanto Però quella volta Che vado pure Nella sala Per dire Se ci vado Ci vado Oh Ho sbloccato Sto cosa 85 Bono Per l'SBC Bono Bono Viene Viene Cioè Seppure Mi faccio un coffee Seppure ci vado Nella sala Ci vado Perché Mi fisso un budget Io Ho un mio modo di fare Quando vado Nelle sale slot Ma Almeno L'ultima volta Che ci sono andato Considerate Che Mi starò parlando Di Aprile Dell'anno scorso Probabilmente Aprile Dell'anno scorso Cioè Quando ci vado Sai come faccio Vado a prelevare Mi prelevo Per esempio 500 euro Mi levo Tutte le carte di credito Da dentro al portafoglio Tutte Mi metto Solo i 500 euro La tessera sanitaria E vado a giocare Cioè Io devo uscire Ho vinto O Ho perso Le 500 euro Che tenevo addosso Stop Ma Non Non mi porto dietro Una carta Non mi porto dietro Un banco Mato nulla Perché poi La Mi fai prendere E Fai sclusato Perché uno può pure dire Eh Una volta Ho perso 500 euro Poi Ho ricaricato Ho messo a te 300 Ne ho vinti mille E sono andato sopra Non mi interessa Io mi calcolo 500 euro Li posso Perdere Mi gioco quelli E non voglio sapere niente Se li perdo Persi Se li vinco Vinco E questo è Diciamo Come faccio io Va bene Mi do i limiti da solo Perché mi conosco Sono ludopatico Quindi Se mi mandi Se mi mandi In un casino Con la carta di credito Finchè la carta di credito Passa Sono puliti tutti Se vinci Mille Al casino Ma Mille euro Sono pochi In realtà Non ti cambiano la vita Se vincessi Se vincessi un milione Di euro Sicuramente La maggior parte Lo investirei subito 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 Occhio a sto Anonymous Circe Che sta donando A tutti I buzza di scan E a me 300 Circe Ma donato Ma avesse donato 4000 Circe 5000 Circe 300 Circe Ma donato Se non me li paga Twitch Non me li paga Che devo Quale il problema Dipende dagli importi Dom C'era C'era Quando è Io ho visto gente Che ha donato Quello è il fatto Di Matteo HS Che c'era quel ragazzo Che gli aveva donato 180.000 Bits Parliamo di una cifra Come 4000 5000 Euro E poi Twitch Non glieli ha pagati Perché erano scambi Chissà da dove Venino da carte di credito Rubate Roba così Allucinante Prove Ah magari Si è fatto L'account Incaricato Di Circe E vado Nando Signor Toni Dove sta andando Su Twitch Ma non male 100 Spectre Bello Più o meno Stiamo là Con gli spettatori Però vedi Youtube Se faccio Il contenuto Forte Salgo Salgo Tantissimo Twitch Se E' più stabile Il pubblico Twitch mi seguono Su tutto Twitch Gioco Parlo Chiacchiero Faccio Sempre Lai Spettatori Faccio Il contenuto Si salgono Ma di pochino Su Twitch Su Youtube Faccio Il contenuto Sparo Cioè L'altra volta Che stavo facendo Nascondino Con l'Icon Che arrivammo A quasi Mille spettatori Allora Consigli Squadra 150k Mattia 150k Oggi E' un po' Pochino Per fare Una squadra Tony Quando prendi La partner Su Twitch Mai Ragazzo Padre Perché Se la piglio Non posso Fare Il stream Capi Io Per poter Streamare Sia su Youtube Che su Twitch Devo essere Affiliato Su Twitch Se no Se prendo La partner Non posso Streamare Su entrambe Le piattaforme Quindi Non ho interesse A prendere Partner Su Twitch Tony Che bello Fare gli obiettivi Nel chill Mentre guardo La live Grande Don Masì Tony Ma sei anche Su Twitch Si Mario Sono Su entrambe Le piattaforme Sia su Twitch Che su Youtube Allora Ragioniamo Mi sono fatto Tutte queste cose Single Che cazzo Mi dovrei fare Più Guardate che stasera Ci troviamo A fare obiettivi Che ne so Facciamo La pallottola D'argento Che è questo Segna 10 gol Da fuori aria Superiore Un'aria Ma se è composta Di giocatori Giocatori D'argento Ah Qui dovrei fare Minji Sei partite Livello Esperto Però Cazzo Ti do Un pacco Alt Mica male Tanto la squadra Argento Ce l'ho Questo Vincenzi Partite Stelle Argento Segna 4 Quella 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 Che C'era L'altra Che Ma Potevo Farmi Vabbè Però Lounge Argento Questo Cooper Lo vorrei Fare Argento Argento Ipo Ah Sì Sei partite Rimaste Ah Lui L'hanno Aumentato Un po' Cazzo Solo Sei Quindi Ho finito Ma come Mi ero Fatta Squadra Argento Si Inblocca La professione Esce Mighitariano Fatto Bello Bello Ciao Checco Segunda Una vita Ma mica Non dovevi Più Tornare Su Twitch No Io Posso Fare Le live Su Due Nuove Abbonati E Un euro Di Entrata Superchat Su Twitch Ho fatto Due Nuove Abbonati E Un 500 Cheers Beh Almeno Mettiamo Tutte Due Le cose Insieme Esce La 20 Euro Giornaliera Per Cambare Per Sopravvivere Mettiamo Le due Cose Insieme Allora Ah Voglio Aprire Draft Questo Sì Questo Me lo Voglio Giornare Draft Giusto I 15 K Per Arrivlo Vai Trovate Osempio Prime Bravo Bellissimo Giocatore Bernardo Silva Sonna Di Maria Di Bala Bernard Mi piace Fa Sempre Aprire Sono Ormai Scontato Su Sto Gioco Sì Però Mamma mia Gli Attaccanti Bro Che Palle Che Palle Pro Pro Vediamo Averzo Pro Vediamo Averzo Averaz Rich Cdice Rich Cdice Rich Cdice I Mediane Del West M Do Redi Ti sente la mancanza di BD, capello spettacolare? No Sinceramente no No Perché Xabi nel suo piccolo Il suo lo fa Sinceramente Non te la fa sentire tanto la mancanza Xabi Onesto proprio Vigilissimo Mori man Quando esci a Shin Prime Quando ti inizia il portiere è buono Quando non ti serve il portiere Te esci Guarda ma te che la difesa fa solo un terzino destro Un bel cafu magari Alessandro Arnone ci piace Alexander Arnold Dovai Centrocampo dai Qualcosa di caruccio Centrocampo Claudio Maurizio Alcaccante mi serve A S A D A T T A S A S Cioè Non ferma niente Stiamo in Gli A T T Ti ammallevando Sicuramente è meglio Tenere questo Ah no Questo pure è Germania A T Cento di intesa Siamo fatte l'intesa Togno i tuoi obiettivi futuri lavorativi in generale è anche per e-sport revolution eccetera Che stai programmando? Sì Io sto lavorando su tante tante cose Sto lavorando su tante tante cose Domani vedete un nuovo format Vincenzo Domani c'è un nuovo format che porto sul canale Quindi domani mi raccomando Fatemi sapere Datemi un feedback Il TGtubo In Inilterra Com'è? Eh già è un po' per chiù Vanindele Vandoschia Qua però Quindi domani già vedete un nuovo format sul canale Domani mi serve un consiglio ATT da 500k Ma 500k Crespo Prime Vai Spacca tutto con Crespo Prime Tra l'altro Mo che ci ha rifletto Se metto Riche di qua Eh qua ci ho prendere 10 a questo Bravo Allora Attaccante da sostituire Vengo Vinicius Vandoschia a 4 Lo potrete niente Andrò per cazzo Non mi riesco a 4 Quanto è il tuo stipendio? Eh sono sotto i tuoi stipendi Quindi tra poco vado al lavoro Andrea Quindi cosa tratta questo TGtubo? Domani vi drive Ragazzo palle Vi serve Tony Domani vedrite Domani vedrite Forse sponsorizza qualcosa Perché 600 euro sono troppo pochi Sì ovvio Ovvio Io ho un contratto con FIFA Coin Diciamo il main sponsor del canale Per ora Poi Avevo il contratto col cinese delle maglie Che però non rinnovato E Tony va di iniziare un business Con zero investimenti Sembra interessante detta così Peppe Che devo andare a Dubai A riprendermi col telefonino? Criptovalute? Criptovalute? Da qua lo scambio mi metto Fammi sentire Vai mandami un'email Peppe Proponiti Io voglio quale mi sorta Purtroppo 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 La mia Il mio background Imprenditoriale Mi ha insegnato Che se non investo Non posso guadagnare Quindi No No Contro due no Ma vaffanculo Ma dovrebbe essere illegale Sta cosa Che devo giocare contro due persone Doppio pressing Doppia cosa No no Senza cripto Allora si mi piace Vai Contattami Peppe La mia email commerciale La trova in descrizione Ilgettore Nolaghiacciolottmail.it È la mia email commerciale Scrivimi Mandami una bella mail Dove mi spieghi tutto E io Sarò lieto E fa E bullet Ah io già lavoro con i siti Tengo comparatore e tutto Già lavoro con i siti Però Se vuoi te ne parli in privato Eh parla Me ne va Voglio sapere Anche se molto probabilmente È quello che già Sto facendo Molto probabilmente Perché ho il comparatore Pure io in descrizione Se lo vedi Con i link affiliate Eccetera Quindi se mi stai proponendo quello Lo sto già facendo Caro Sì ma io non posso Giocare contro due Contemporaneamente Ma che palle Guarda là Sono pure forti Questi a giocare Pressano in due Mi attaccano in due Guarda lì Quando è vera Ma non C'è fa uno a uno E devo quittà No quando è vero Dico Guarda Non amo farlo Ma devo farlo Devo farlo L'obiettivo mio È questo C'è fanno un gol E c'è quittà Già schiatta un gol Sti uomini in merda Ma perché dovete giocare in due Porco due C'è io devo giocare in uno E devo giocare con l'handicap Ma perché Guarda là Ma per quale ragione Devo giocare con l'handicap Io Ma non lo so Non mi ricordo Non mi ricordo Mannaccia Mi potresti rispondere Il Prime Quanto costa L'abbonamento Prime Mi sembra che costa 30 euro all'anno L'abbonamento Ad Amazon Prime Però Oh Oh Così Man Schiattato un gol Puglia Ma ti faccio proprio Un disso C'è io Un draft Ma faccio La prima partita Distrunzo Contro Che Anni Come era Andato A due di loro Ma non è normale Bollette nel senso Cassi e luce Ah Non sono scambiabile Grazie Almeno faccio Qualc'è credito Va Recuperi 15k Del draft La fammuc La fammuc Quanto costa 37 35 E che devo andare Casa per casa Fa fare Gli allacci Di luce e gas Che lo Mi chiede Nella parte Fora Dici Ma C'è una frase Che mi divertente Ciao ragazzi Posso venire a casa vostra Per proporre una cosa Si Vieni C'è il mio idolo Vai a casa Mamma Fanno Ma noi Ti abbiamo fatto venire Solo Fanno Fotografia Con mio figlio Ma Dero Vogli Signora Ma io Posso farvi Sparmiare Sulla bolletta Della luce Ma Non Si Ma Attaccate Vicino Una Forma Manca Altro draft E Ci sta Oddio Oddio Questa qua Questa qua Costa Due Tremila Crediti Tony Egon Buona Sono tutte Buona Tranne Pippo Inzacchi Ah po Ma Mi ha incuriosito Peppe Me la mandi In e-mail Ho scritto Tutto Quello Che si tratta Di fa Se Mi mandi In e-mail La mia Mail Commerciale È Ilgettone Nola Chiocciola 8 Mail .it La trovi In descrizione Di tutte Le mie Live Nel Canale Se vai In informazioni C'è proprio Scritto Mail Commerciale Fai mostra E ti esce L'e-mail Commerciale Scrivimi Lì Che Sicuramente La vedo Bernardo Silva Champions Bello Mi gusta Mi gusta Il mucciaccio Danilo Pereira Vai Tilemans Ci piace Sai che voglio Vedere Se esce Hakimi Ah Hakimi Non è uscito Però è uscito Caboret Di Ligan Marquinhos Oddio Io prenderei Mandic Andiamo Adesso Mo Marquinhos Magari No Non è uscito Non è uscito Non è uscito Non è uscito La scottega Zinedine Zidane Grazie Bello Benten Il gol Va bene Va bene caro Sei gentilissimo Ti ringrazio Diventeremo colleghi di lavoro A breve Anzi no A brevissimo Cristiano Ronaldo 92 E che fai E che fai Te ne privi Ovvio che no Miranda Budget 400k De che De che De che Non mi metti Non mi metti In mezzo In mezzo a me De che Allora in realtà Andrebbe preso Ruben Diaz Però Tengo Az Piculeta In questa versione qua Che è simpatico E lo piglio Portiere di Premier Grazie Asciugla Cello di indiesa Fatto Diciamo che Mi serve Uno al posto Di Benten Che Kevin De Bruyne Sei veramente Molto carino Mi sei piaciuto KDB Dai Ciao sono svenuto Arripigliete Arripigliete Oh 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 Tony se non avessi Abbandonato Twitch Tempo fa Pensi che oggi Avessi avuto Dei grossi numeri qui No Sinceramente Te lo dico Con tutta onestà No Non credo che Avrei avuto Dei grandi numeri Su Twitch E ti spiego Anche il perché Se proprio Te lo chiedi E lo vuoi sapere Dici come mai Tony Ti butti giù Pensi così Perché su Twitch Oggi Oggi Fare streaming Su Twitch Vuol dire Fare a gara A chi fa più ore Di live Oggi Twitch Mette gli streamer In condizione Di gareggiare A chi fa Più live Per più tempo Quindi Chi è più presente Sulla piattaforma Ne tra i vantaggi Chi è meno presente Sulla piattaforma Non ne prende Dei vantaggi Morale Della favola Secondo Il mio punto di vista Siccome io Non sono tipo Che riesce a stare 4-5 ore Più di 4 ore In live Dopo 4 ore Sono cotto Non riesco più A fare un cazzo Non credo Che Twitch Sia la piattaforma Giusta Per me La Twitch Di oggi La Twitch Di un tempo Era la mia piattaforma Perché la Twitch Di un tempo Le live Erano live Di 4 Di 3-4 ore E Lì Era la mia piattaforma Infatti Io Nel 2019 Sono stato Nella classifica Di migliori streamer italiani Al quarto posto Per 3 mesi di fila Sono stato Terzo Quarto posto Per 3 mesi di fila Nel 2019 Me la camicchiavo bene Ciao Tony Casinò No stasera no Buonasera Tony Meno male che ci sei tu Meno male che Tony C'è Viva l'Italia Bravo Tony Sei bravo a fare lo streamer Grazie Spartan Ti ringrazio Gentilissimo Ok No ho paura Le modo di beccarne Due contro FIFA White style Ok Togli il contratto Baggio Prime Com'è Cosa ne pensi Di Greenwood Guarda Io lo seguo Su Twitch Non Non ho modo Di vedere le sue live Perché Ahimè Quando lui stream Ma streammo anch'io Quindi Non mi Non ho Non ho Mai il tempo Di vederlo In diretta Però ho visto Un sacco di roba Su Youtube Ricaricata E bravo Nessuno lo sa fare E io penso Che è uno dei pochi Delle nuove generazioni Che si è venuto Per Provare a comunicare Qualcosa di buono Lui Pure l'altro amico suo Quel ragazzo Biondo Jody Pure bravo Cioè Sono Ragazzi Che Lo seguo tanto Il web Quindi Mi sono arrivati All'occhio Pure perché Comunque Conosco Rubino Quindi Un paio di cose Mi sono uscite Perché vedendo Rubino L'ho visto Nelle live Quindi poi Questi ragazzi E Sono bravi Sono bravi A intrattenere Sono 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 Quelle poche persone Che ho visto venire Da tiktok In grado Veramente in grado Poche persone Ho visto venire Da tiktok Brave Loro Greenwood E quell'altro ragazzo Jody Sono veramente In grado Molto bravi Scusa Il t9 Ti volevo dire Ho trovato Baccio Il t9 Ti seguo da 5 anni Sei il top streamer Di youtube Grazie Claudiano Ti ringrazio Troppo gentile Ad esempio Lui fa 3 ore al giorno E streama solo 5 volte al giorno Sì però Lui fa un contenuto Un contenuto Non come Non da gaming Come me Capisci Il problema Io lo Lo vedo solo sul gaming Sta cosa Cioè come te lo spiego Sul gaming Devi fare le ore E ore E ore E ore Se fai un format Intrattenitivo Allora ok Crea un appuntamento Vedi pure il cerbero Non è che ha bisogno Di fare 10 ore di live Per dirti Perché crei Un appuntamento E va bene Però se fai gaming La presenza è tutto Se fai gaming Devi stare Sulla piattaforma Presente 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 Dai Non è così Perché è così Anche Di Giovanni Bravo Non lo conosco Di Giovanni Non lo conosco Te l'ho detto Conosco questi ragazzi Perché spesso Vedo Vedo le cose Di caricate Su youtube Di rubino Dove sta La Come si chiama Il circo E Le vedo spesso E sono Sono molto bravi Assolutamente Assolutamente Boom baby Bye Tony ha trovato Rudiger 86 Il pacchetto Non scambiabile Va bene Tony Greenwood Ha dato un buon esempio Greenwood Green Green pass A me Fece morire Il meme Del cerbero No Green Bout No Green Bout Che Fece morire I manifestanti Che facevano Green pass Green Bout Che però in realtà È del gambrone Il meme Però io l'ho sentito Dal cerbero Miglior streamer di FIFA Secondo te Ma secondo me Dr. Wild Tutta la vita Perché Io quando giudico le persone Non guardo gli spettatori Io nella classifica Dei migliori streamer Metterei al primo posto Dr. Wild Al secondo Hollywood Al terzo Zano Io mi escludo Non mi consiglio Però se dovessi fare La mia personale classifica Degli streamer Più bravi Su FIFA Metterei al primo posto Dr. Wild Perché Marco è Il più competente Di tutta la scena italiana Di FIFA Stop Cioè È la persona più competente Che ho mai conosciuto Che parlasse di FIFA C'ha un modo di parlare Che è Veramente Piacevole Spiega Le cose In maniera Perfetta Per me È il miglior Streamer Italiano Ma da anni Da anni Poi La fortuna di avere I diecimila spettatori Non ce l'ha mai avuta Perché Quello purtroppo È una cosa Che Non Secondo me Perché lui è sempre stato Troppo purista Cioè Tu per fare Gli spettatori Su FIFA Devi Devi essere anche Un po' Diciamo Clown Intrattenitivo Pagliaccio Mettila come vuoi Ok Devi essere autoironico Far ridere Eccetera Quindi magari Per arrivare alla viralità Però se noi parliamo Proprio di tecnicismi Di persona Che ti sappia spiegare Tutti E quando dico Tutti Tutti I cazzi Di FIFA Tutto No Si batte Secondo posto Ci metto Nello Perché Nello Come gameplay Assolutamente Penso Tra lui E Ribera Perché pure Ribera Sono merita Una menzione d'onore Tra lui e Ribera Penso che A livello di gameplay Non ci siano persone Più competenti Di loro Proprio sono Tra i più bravi D'Italia Poi Ti ripeto Metto Zano O lo metto Per il content Perché Zano Penso che oggi È l'unico Che possa offrire Il contenuto Pazzesco Su FIFA Cioè Escono Che ne so I toti Mettiamoci là Con un milione Di FIFA point A spacchettare Penso che Oggigiorno In Italia Soltanto Zano Riesca Economicamente A supportare Un contenuto Del genere Cioè Di resto Non ci Non ci riesce Più nessuno Cioè Io Un tempo Ci riuscivo Ma Cioè Quando poi I numeri Non vengono Dalla tua Cioè Avessi Io ho sempre detto Avessi 20.000 sub Pure io Ma è ovvio Che shopperei Dalle 5.000 Alle 10.000 euro Al mese Su FIFA Anzi Io farei pure Peggio Di quello che fa Zano Se ne avessi Io quei numeri Però Ovviamente Va da persona A persona Quindi La mia personale Classifica Di FIFA Per me E' questa Non Perché poi Te lo ripeto Io Gli streamer Non li giudico In base ai numeri Giudico in base Ad altri parametri Qual è il mio streamer preferito? Streamer In realtà Non c'è Streamer Perché Io Streamer Streamer Non ne seguo Io seguo Tanti youtuber Che fanno Anche streaming Però Se ti dovessi dire I miei streamer Preferiti Sono il Cerbero Pod Tuttavia Tutta la vita Perché L'unica Però io Il Cerbero Podcast Lo guardo Solo su youtube Non lo guardo mai In live Da loro Per esempio Delle volte Mi è capitato Che Mi regalano L'abbonamento Quando fanno L'abbonamento Regalo A tutti Su twitch Che è tipo Regalo Alla community Mi capita Spesso Che Mi viene regalato L'abbonamento Al Cerbero Podcast E quindi Mi capita Di andare A vedermi Qualche VOD Però Non li guardo Mai in diretta Non riesco Mai a guardare In diretta Li guardo Sempre In differita Su youtube Quindi posso Dire che Assolutamente Sono i miei Streamer Preferiti Tanti Come si accoppia I gabbiani Penso Volando Penso Però Ci andrebbe Fatto Uno studio Di questa cosa Cosa ne pensi Di xyuder Io xyuder L'ho scoperto Io xyuder L'ho scoperto Questa cosa Voi non la sapete Xyuder Io L'ho scoperto A undici Spettatori Su clash royale Su youtube Io la sera Mi mettevo Con tatino A fare La ricerca Canali live In diretta Ora E uscivano Tutti gli italiani Che stavano In live Su youtube E acchiappamma Xyuder Con dieci spettatori Su clash royale Io me lo misi A guardare Dissi Questo Se ci Crede Spacca E io sono iscritto Al canal Xyuder Da una vita Perché mi ci iscrissi pure Lui non mi conosceva Io Vi volevo vedere Se mi conosceva Quando usciva La cosa Grazie Facilmente Ti segue Ti parla Mette sempre in mezzo Gli argomenti Non ha bisogno di Sottofondo musicale Perché lui E' lui che parla Quindi ho sempre pensato Che Xyuder Ce l'avesse E infatti poi Vederlo arrivare A grandi numeri Cioè Mi sono detto Tra me e me Cazzo Se non facevo stream Arrivo dei foo manager Cioè Nel senso Lo scopritore di talenti Perché Non avete idea Di quante persone Ho visto Ho conosciuto Ho detto Questo è bravo Questo spacca E poi hanno spaccato Veramente Cioè Ma tantissimo Uno per esempio Su tutti E shale boom E shale boom Ma glielo ho detto Che teneva 500 iscritti Io glielo ho detto Tu sei bravo Tu ce l'hai Proprio così A shale Pure lui Lo racconta Io è stata una delle prime cose Che gli ho detto Ho detto Tu ce l'hai Tu ce l'hai Sei bravo Vai Continua Non ti fermare Perché tu Tu vuoi fare grandi cose Vedete il tempo Mi sta dando ragione Lo streamer Che odi di più Perché è proprio Più gamer Ma non è vero Invece Lo sapete Cioè Allora Io non posso Nascondere A voi Il fatto Che sono anni Che ormai Non ci sentiamo più Però Non l'odio Ma giuro Sulle cose Più cari al mondo Che ho Non l'odio Assolutamente No Non l'odio Probabilmente Al contrario Sì Probabilmente Non lo so Non voglio pensare male Senza sapere Probabilmente Al contrario Sì Però Cioè Lui a me Probabilmente Mi avrà messo Proprio In un angolo Dice Non voglio sentire Neanche più Parlare di lui Però Da parte mia No Perché alla fine È un bravo ragazzo L'ho visto L'ho visto Negli anni L'ho visto Crescere Voglio bene Personalmente E non Non giudico Neanche Neanche Le cose Che fa Fa bene A farle Io Sono sempre Stato Molte cose Non le ho condivise Io l'ho detto Tante cose Che ha fatto Non le ho condivise Però L'ho sempre Capito Perché poi Tu devi anche Entrare nella testa Di un ragazzo Più giovane Che vuole fare Vuole sperimentare Vuole Provare Quindi magari La cazzata la fa La deve fare Però Non ho mai litigato Su Sgamer Semplicemente Non ci sentiamo più Perché io Non ho fatto parte Del progetto Elyts Ci siamo allontanati Ognuno ha preso Una strada diversa Perciò non ci sentiamo più Ormai da due anni Però Che ti devo dire Sono due anni Ma io Mi è capitato di Vedere dei colleghi No Che mi sono venuti A riferire Delle cose Delle parole Delle cose Ho detto Sì Dimmi quello che vuoi Vabbè Purti si hanno parlato male Di me Non fa niente Non mi interessa Io voglio me lo stesso Perché dato Il 90% Lo dicono Per far uscire fuori Capi Quindi Così Noi hanno mai chiesto Di un brand Di Elyts Sì Dovevo far parte Del progetto Elyts All'inizio Però appena Impusi il problema Che non potevo andare Ad Amsterdam A fare il video Di Amsterdam Quello lì Del Dei confiabili Perché comunque Mi costava troppo Il viaggio Avrei dovuto Vivere con la mia ragazza Perché digli Che vai a Amsterdam Con gli amici Tuvi a fare video Sarebbe stato Un po' un problematico Per me Mi dissero Vabbè Allora non puoi far parte Del progetto Ciao Così andò E lasciai Quindi Però lasciai Comunque Dicendo Vabbè Comunque facciamo Video insieme Siamo sempre un gruppo Non è che Non faccio parte Del nome Così All'inizio Sembrava essere così Poi dopo Le strade Si sono un po' Allontanate Fa niente Doveva andare così Probabilmente Doveva andare così Tra gli esempi Tomas Sangri Si simpaticissimo Amazing Allora Lo seguo Non tantissimo Ogni tanto Guardo qualche video E simpatica Tomas Sangri Amazing Eppure Tomas Sangri Lo vorrei tanto Vedere a Napoli In una trattoria Napoletana A mangiare Un menù intero Di Non lo so I pasti E padana Che provo Di queste cose Ma Tomas Regala C'è sto sogno C'è veramente Ti porto io In un paio di ristoranti Se vedi a Napoli Ti porto io In un paio di ristoranti Una cosa incredibile Proprio E poi la challenge Perché c'è un paio di ristoranti No Piedilo a loro Enzo Fece una storia Spiegò delle cose Però C'è Enzo Enzo fece delle spiegazioni Però Sono cose loro Non Non entro nel merito Io le cose le so Però Non Non è bello parlare Di cose private Pubblicamente Quindi evito Così Però Vi dico Che Forse Sarà per la mia età Che sono un po' Troppo vecchio Troppo boomer Però Certe cose Mi hanno fatto Gira il cazzo Lasciamo stava Meglio che sto zitto Perché tanto Allora La mia soddisfazione Se avete quale è stato Fuori al centro direzionale Fuori al centro direzionale Ho incontrato Due ragazzi Che mi hanno chiesto Una foto Io stavo andando Al centro direzionale Stavo Un biologo Che stavo andando A fare Una cosa di lavoro Al centro direzionale E Sti due ragazzi Mi incontrano Mi chiedono la foto Si fermano a chiacchierare E mi fanno una domanda No? Molto simile A quelle che mi state facendo Quei mo' No? Cosa è successo? Gli ho risposto Apertamente Ho detto Queste sono cose Che non posso dire pubblicamente Mi hanno abbracciato Se vi voglio Una hit card Per farvi capire Purtroppo Tante cose pubblicamente Non si possono dire Con questo sto dicendo Che gli altri Sono pezzi di merda Io sono buono E attenzione Magari sono io La persona di merda Però Semplicemente Delle cose Non si possono dire Antonio mi mancano Le tue live Sul Fiat 18 Perché ogni volta Succedeva qualcosa Di etico Magari 88 spettatori E la gente Mo' va a dormire Oh intanto Twitch batte YouTube 95 spettatori Su Twitch O unibittà Twitch Twitch più spettatori Di YouTube Metà coppia No ma perché è così YouTube è più altalenante Twitch no Twitch Più ti Ti seguono Toth Così più Difficilmente Cali Dicessi che Modric e Toti Ti ricorda Una persona Vuoi dire Come è Baggio Prime Se lo posso utilizzare In potere Certo Quello puoi utilizzare Ti meritavi Il 300% Di quello Che ha fatto Ma perché L'edicato Non ho mai L'edicato Ti ricordi La cosa Che ho Poi L'infiniti Si ragazzi L'Alzheimer Ancora Non mi ha colpito Quindi tranquilli Le cose Le ricordo Adesso farei live Sia su YouTube Che su Twitch Certo Fanno dei live Su entrambe Le piattaforme Dato che lo posso fare Ci tengo a farlo Quindi Si Lo farò Lo farò Lo farò Lo farò Su entrambe Le piattaforme Così almeno Non faccio prendere Collera a nessuno Nessuno dirà Hai abbandonato Twitch Hai abbandonato YouTube Hai abbandonato qua Hai abbandonato là Sono Su tutte e due Le piattaforme E mi diverto così Il bello sarebbe Che su una piattaforma Faccio il boom E sull'altra No Quello sarebbe spettacolare Tu immagina Su Twitch Inizia a fare 1.000-2.000 spettatori Medi Su YouTube Lo fai sempre 100-200 No Cioè sarebbe proprio epico Oppure al contrario Lo fai 1.000-2.000 su YouTube Lo fai 100 su Twitch Dici ma Perché su una piattaforma Funzionano No Potrebbe essere Un esperimento Eh Potrebbe essere Un esperimento Potrebbe essere Un esperimento Tony Hai mai assaggiato La pizza da porzio No Però ci devo andare Ci devo andare E bene E' troppo simpatico Porzio Veramente C'è a pelle E' stato troppo simpatico Poi E se ho visto Il video con Sciale Conoscendo La famiglia di Sciale E' franco Così Sono andati d'accordo Loro Sarà una persona d'oro Se sono andati d'accordo Loro Sarà una persona d'oro Hai fatto Il tuo peccato Tu hai due anni Sei perso Eh Vabbè Ma ci ritroviamo Io Non ti preoccupare Madonna Tony Mi ricordo Qualche anno fa Che ti guardavo Ogni giorno Mi sei comparso Nella home E quindi c'è di fare un salto Bella Super Diacopo Eh Purtroppo ragazzi Le cose cambiano Negli anni Tanti di voi Sono cresciuti Hanno trovato lavoro Fidanzate Mogli Figli Eh La vita si evolve Infatti Molti non hanno più il tempo Di una volta Di seguirmi Mannaggia Questo Mi fa star male Dai Un bel cc Pugba Pugba Te lo giuro Mi ricordo Quando dovresti Te lo giuro Tony Mi ricordo Quando dovresti Cambiare il numero Di telefono Eh Le cose belle Le cose belle Che porta il web Eh Che belle cose Uh Godo Zinedine Zidane Sto godendo Come un porco Adesso Sto godendo Come un maiano Tony Basta Ciccio caputo e cogliarella Troppa scelta Pidiamo a Blauric Allora Portiere Mi serve uno di premio Subito Francia Germania Spagna Francia Francia Ma come si fa Ma come si fa Inghilterra Olanda Nessun Olanda Sì Mene 27 E non lo posso mettere Se lo metto Prende meno intesa Ma va a fare Un buro Mamma De sole De non De buro Ben Ramam Ben Ramam Esplode Delle Alli Qui Fa più Due Cento Di intesa Fatto Ok Mane Adama Lozano Mare Tutti A DAS Ma come si fa Tutti A DAS Mannaggia La Puu Pazza Una Tt Decente Grazie Ma prima Portavi Se more FIFA Mi son Dimenticato Che porteresti Fortnite Facevi troppo Spaccare Ma la Ringrazio Ma la Ringrazio Per i Comprimenti Fortino Il Fortino Cottatino Allora Paudo Non Va Non Va Le Le Ho Trovato Ronaldo Io Ho Trovato Neymar Ronei Ronei Lo Piglio Tutta la Vita Lo Metto Al Posto Di Questo Ma Vai Tutta la Vita Proprio Amo Mi Mi Uscire Pure Magari Un Bell Amaretto Fammi Uscire Pure Un Bell Mbappé Perché No No Eh Lei A Germania Inacio Cazzo Mi Faccio Di Inacio Mi Metto Posto I Blavici Non Guadagn Niente Inacio Ma Boh Vediamo Se Con L'allenatore Andiamo Carletta Angelotti No Questo Si Spagnolo No Spagnolo No Svizzera No Solo Questo Una Volta Era Tutto Più Semplice Ritornavo A Casa Da Scuola Stavo Ore Ore A Guardare Youtube Adesso Purtroppo Si Cresce Quando Iniziano Le prime Relazioni Lavoro Insomma Si Cambia Lo So Lo So Lo So E Lo So Fin Troppo Bene Lo So Fin Troppo Troppo Bene Infatti Per Fallire 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 Fallito Io Ho Fallito Il Ricambio Generazionale Ragazzi Io La Generazione Dei ragazzi Che oggi hanno Tra i 18 E i 24 Mi conoscono Veramente Quasi Tutti In Italia Di quella Generazione Mi conoscono Mi hanno Apprezzato In tantissimi Mi hanno Voluto Bene Ecc Il Ricambio Generazionale Non l'ho Avuto Quindi Oggi Cosa Manca A me Oggi Manca La Massa Di Quindicenni Sedicenni Che Mi Seguono Quella Massa Io Non L'ho Avuta Paradossalmente Non mi Posso Dare Colpe Perché Quella Massa L' In Italia Se L'è Pigliata Tutta Anzano Ma È Un Merito Per Lui Non Pensate Che Lo Sto Accusando È Un Complimento È Un Merito Per Lui Ma Quella Fascia La Se L'è Pigliata Tutta Zano Veramente Tutta Ci Ha Lasciato Tutti Quanti A Bocca A Bocca Asciutta Perché Voi Guardate A Mi 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 Se Vado Un Giro Su Twitch Andate A Tutti I Chiedevano Forte 2018 Facevano FIFA Nel 2018 Andavano Forte E Ti Rendete Conto Che Tony Tub È La Meglio Cioè Nel Senza Che Pure Gli Altri Stanno Guardate Quanto Meno Fanno I Numeri Che Faccio Io Chi Un Po Di Più Chi Un Po Di Mi Ma Siamo Là Questo Che Vuol Dire Che Il Ricambio Generazionale L'abbiamo Avuto In Pochi Io Ho Quattordicenni Ci Sono Ovvio Che Ci Siete Però Il Problema È Che Ce Dovrebbero Essere Mille Roberto Della Età 2000 Della Età 3000 Capito Quello È Ricambio Generazionale Che Intendo Io È Ovvio Che Ci Siano Quattordicenni Quindicenni Adesso Che Mi Seguono È Ovvio Ma Voi Perché Siete Siete Diversi Voi Cercate La Qualità E Quindi Trovate Tony Da Quando Ti Seguo Ad Oggi Sono Sposato Una Figlia Di Tre Anni Grandi Joker Pure E Per Cazzi Soi Non Ci Siamo Mai Coalizzati E Messi Insieme Per Cercare Di Darci La Mano L'uno Con L'altro Quindi Se Siamo Tutti Guardi Giù Ce Lo Meritiamo Penso Di Essere Deprezzo Cosa Posso Fare Parlarne Con Le Veramente Apprezzo Tantissimo Grazie Di Cuore Dove C'è Tony C'è Qualità Ho 16 Anni Grande Tony Eri Resterai Un grande Se è Stato La Storia Di Youtube Purtroppo Quella Generazione Non Esiste Più Anche Dexter E Altri Si Trovano Così Solo Mike Rimasto Tanti Di Belli Te L'ho Detto Purtroppo Capisce A me Non Piace Fa Nomi Però Se Noi Potresti mettere il link per i 1000 euro Giuseppe Sta in basso Il secondo link in descrizione Ti apre il comparatore Il primo sito del comparatore Si chiama Vinci Tu Cliccandoci ci arrivi Seguida quando ne avevo 13 Ricordo sempre quando venisti al Capacorn Bella Piero Grande il Capacorn Che spettacolo Per te Tony Per ricordi vecchi tempi Grazie Vinni Gentilissimo Io ora ho 17 anni Ne compio 18 ad agosto Quando facevi le dirette sul filo 17 18 Non me ne perdevo Una ora fra Studio e lavoro Non sto guardando più Stasera sono tornato Bella Marco E No 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 Stasera no Oh 3 like Arriviamo a 400 like Schialtiamo sti 3 like su Youtube Forza Non mi piace Vedo i 3 in 97 Ma fa 400 Numero Numero tondo No Però Alla fine Lamentare a parte Io Sinceramente Posso dirvi Che a inizio gennaio Stavo molto più basso Di come sto adesso Quindi in realtà Ho toccato il fondo A gennaio Ora sto risalendo Piano piano Ma sto risalendo Quindi io sto vedendo Pure delle cose positive In questo periodo La risalita non è facile Ci vuole tempo Ci vuole Nuove idee Nuovi format Nuove cose Ci sto mettendo Tutto me stesso Se non dovesse andare Come deve andare Non fa niente Ci ho provato Che cazzo Me ne frega Se invece va Tanta roba Ci sono riuscito Perciò Io onestamente In questo momento Sto vedendo Molte cose positive Più delle cose negative Sinceramente Sono onesto Tani ma questo è il tuo profilo principale Questo si di youtube Si è il mio profilo principale Sono anche su twitch Trovate pure su twitch E su twitch Ci siamo in 127 A mappete Tani secondo me Su tiktok Spaccheresti tutto Credimi E lo so Infatti tiktok A me mi va bene In realtà Io l'ho aperto L'ho aperto L'ho usato un poco Ci ho caricato 10 video Su tiktok E il video più popolare Mi ha arrivato a 300.000 Visualizzazioni La media di visualizzazione Di 50.000 Visualizzazioni Per tiktok E ho fatto un sacco di follower Non tantissimi Perché là poi Non è che converti tanto Però Le views ci sono Arrivano Veramente tanta roba Dovrei Dovrei Utilizzarlo di più Tiktok Però Fare il tiktoker Non è Non è il mio massimo Ho controllato Tony ma non trovo Quello dei mille Giuseppe Devi vedere come Non lo trovi Ci sta Ma non fai meno dubbi A me C'è nel comparatore Se vedi il secondo link Del comparatore Scusami Bello mio Mi mandi in crisi Tu a me Comparatore Comparatore bonus casino Si apre E ci sta Guarda qua Lo faccio vedere qui Questo è il comparatore Apri qua Comparatore bonus E casino Eccolo qua Vinici tu Clicchi qua Mille euro senza deposito Bonos Fin a 500 euro Clicchi su registrati E' fatto Che stai Non ci vuole Non ci vuole assai Ci sta caro mio Io rappresento Bebbi come il Cicchi Non ho del fenomeno Bebbi come ATT Dipende a che te serve Dipende a quale Deve tu vuole ti serve Posso vedere la tua squadra Tony Certo Quale vuoi vedere Quella con cui giocherò La weekend league Quindi la mia Ergient Perché farò Domani la sfida Di giocare con questa No Non con questa Scusami Domani giocherò Con questa Squadra Qui Giocherò la weekend league Con questa squadra Qua ragazzi Domani La squadra Argento Per farmi Pick Devo fare 8 vittorie Su 20 Per fare Pick Di argento E Poi la squadra mia Normale Questa Questa La squadra mia Normale Che tengo Una cosa Umile In realtà Qua non c'ho Pele 98 C'ho Pele 91 Però siccome Stavo facendo Le amichevoli Avevo messo Il 98 In prestito Questa è la mia squadra Questa è la mia squadra In panca Son Sheva BD Osimène Giroux Mertens Ronaldo Il fenomeno Baby Lo preferisco Preferisco Cantona Ronaldo Il fenomeno Baby Allora Mezzanotte Ragazzi È arrivata È arrivata Torno a 31 anni Di seguito Da 2017 Sempre rimasto Vedere Ma Fa male Vederti Con un po' Di gente Piano piano Quando i giorni Si staglano Delle cose Ripetite Vedo Ritornano Indietro Sì Ma Non ti preoccupate Sorry Non è un problema Quale era tua opinione Sulla guerra Mi spiegai sentite La tua opinione De teoria Se ti volete Dile Non so Che ci hai detto Già ne ho parlato Abbastanza Marco Non ne voglio parlare Ancora Della guerra Dico la verità Prima Ne ho parlato Abbondantemente Pure Mo' Parlando Di cose Seri Un pronostico Dove In Canaboli Milan C'è una cosa Di soldi E entrambe Le squadre Segnano Al primo Tempo Entrambe Le squadre Segnano Al primo Tempo Totti Ma come mai Così pochi Giocatori Nel club Sto shoppando Di meno Ragazzi I soldi Che prima Utilizzavo Per shoppare Sto usando Su un casino Così Ho detto Ogni Tot Che spendo Poi Ogni tanto Vingo Qualcosa Recupero Per ora Ancora Non ci ho recuperato Niente Però piano Cato Tra di tutto A posto E me l'inviata Scusate In anticipo Però non ho Il dono Della sintesi In basso Ti ho scritto Nome Di business E azienda Per il Personale Va bene Mi hai lasciato Per un contatto Tuo Magari Se mi interessa Il contatto Perché no Doni Ho appena Trovato Lineker Prime Nel pack Icon Dopo averlo Trovato Anche Baby Tempo Fa Allora Ragazzoli Vi ricordo Che io sono in live Tutte le sere Dalle 20 A mezzanotte Quindi mi trovate Sempre in live Dalle ore 8 A mezzanotte Tutti i giorni Tranne il sabato Quindi domani sera Ci vediamo Ci vediamo Alle 8 Di sera Su Twitch E su Youtube Una cosa che tengo A dire soprattutto A chi sta su Twitch Perché tanto Chi sta su Youtube Dove per scontato Che almeno Abbia La campanella Attiva delle notifiche Chi sta su Twitch Mi raccomando Domani esce un nuovo Format Che si chiama TgTubo E ci terrei tantissimo Che lo guardiate Per darmi Un parire Un feedback Sul nuovo tipo Di format Se può essere interessante Oppure no Quindi ci tengo Poi ne parliamo domani Sera in live Mi date pure qualche feedback A caldo Subito dopo Quindi domani Ore 14 Massimo 15 Perché sto vedendo Come fare per la miniatura Perché purtroppo Non ho Non ho la miniatura Per il video di domani Infatti se c'è qualche grafico Tra di voi Che si vuole proporre Per fare da grafico Basta che è bravo Con Photoshop Che ne possiamo parlare Basta che non cerca Troppi soldi Perché siamo poveri Però detto questo Il tempo che risolvo sta cosa E domani esce questo nuovo format Voglio ringraziare a tutti quanti Per avermi fatto compagnia Per essere stati qui Con me anche questa sera Vi do appuntamento Quindi a domani Da TonyTube è tutto Un bacione grande grande A tutti quelli Che si sono abbonati Tutti quelli che hanno donato Tutti quelli che mi hanno supportato Ci vediamo domani ragazzi Sempre qui Stessa ora Ore 20 Non ve lo perdete